Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. del narcisista, la malattia nella grande vita di Giancarlo Di Maggio. Siamo in attesa di Giancarlo, che comparirà a promesso alle 13. Nell'attesa magari vi racconto io qualcosa di Giancarlo. Giancarlo Di Maggio è stato membro del cosiddetto terzo centro di terapia punitiva a Roma, uno dei centri più importanti di terapia punitiva. Si sono molto occupati di disturbi di personalità, cioè disturbi in cui gli stati emotivi di sofferenza sono molto legati alle relazioni interpersonali. Tutto questo crea una serie di pubblicazioni che dovrebbero rendere il quadro più complesso rispetto a un disturbo d'ansia. In genere nella terapia punitiva si tratta di un'emozione di ansia, cioè di esagerata, timore di rischi e di pericoli, pericoli in qualche modo abbastanza impersonali, quindi il paziente non entra molto in relazione con gli altri. Questo in qualche modo semplifica in parte il lavoro, soprattutto rende facile la cosiddetta, o comunque meno difficile, la cosiddetta alleanza terapeutica, cioè il patto che si stringe con il paziente per cui si lavora sui suoi stati emotivi e non sulla realtà esterna. Spesso alcuni pazienti hanno un po' questa aspettativa che attraverso la terapia il mondo esterno diventerà più amichevole, perché la terapia sia una sorta di spoglio a cui ci si trova appunto un compenso alle difficoltà della vita. In realtà la terapia è spesso esattamente il contrario, su quasi tutti gli approcci, anzi tutti gli approcci, è una specie di percorso di accettazione delle difficoltà. Quindi oggi non vedo Sonia che comunque mi chiedeva, ma allora la terapia non devo fargli passare l'ansia, no, la terapia serve a imparare a tenersela, entrate pure da qua. Questo comunque dicevo abbastanza, tra virgolette, abbastanza facile con gli ansiosi che hanno già le idee abbastanza chiare. Se un paziente viene da noi dicendo c'ho l'ansia, ho una buona consapevolezza di avere un'emozione incongrua, sono troppo preoccupato per cose che in fondo non sono così pericolose. Quindi sono abbastanza convinto che devo lavorare con lei, terapista, per farmi passare, per farmi diminuire questi pensieri di preoccupazione. Non è vero che corro tanti rischi, eccetera, eccetera. Il disturbo di personalità è un po' più complesso. Anche la persona con disturbo di personalità è abbastanza convinta, mentre fa il numero di telefono, mentre compone il numero di telefono, che la terapia sia una terapia sui suoi stati mentali. In genere, una persona con disturbo di personalità ha avuto degli episodi interpersonali abbastanza critici, che l'hanno fatto riflettere, l'hanno fatto ragionare sul fatto che forse il suo modo di relazionarsi con gli altri non è più particolarmente indicato. Tuttavia, quando cominciano le sedute, le cose cominciano a complicarsi. Per il paziente con disturbo di personalità è più difficile mantenere un distacco verso le proprie emozioni. Mentre l'ansioso è sempre abbastanza convinto che la sua preoccupazione sia poco utile, mi preoccupo troppo per delle cavolate, voglio smettere, il disturbo di personalità ha delle emozioni diverse, prima di tutto, a posto dell'ansio c'è più la rabbia o la colpa, erano tutti e due insieme che si succedono in continuazione, e soprattutto mentre prova rabbia e colpa è molto meno convinto che queste emozioni siano fuori luogo. Magari mentre componeva il numero di telefono del nostro terapista erano abbastanza convinti che ci fosse qualcosa che non andava. Quando cominciano le sedute, tutto si complica. La verità è che il paziente, chiamiamolo rabbioso, con disturbo di personalità, mentre sta in seduta si aspetta che la sua rabbia venga convalinata, non venga messa in discussione. È un po' strano, è tutto un percorso molto accidentato in cui piano piano il paziente deve rendersi conto che deve modificare la sua visione degli altri. Il narcisista è uno di questi sogni di personalità, uno dei più complessi. Anche il narcisista prova rabbia, prova nervosismo, prova evitazione verso gli altri, non riesce a capire gli altri come si comportano, cosa fanno, come del resto noi in questo momento stiamo aspettando Giancarlo e non riusciamo a capire bene dove gli altri ne si è, si è disposta a pochi minuti di quasi un laviglio. questa rabbia il narcisista come la gestisce attraverso delle idee, dei pensieri appunto di tipo narcisistico. Io ho problemi nel rapporto con gli altri perché gli altri sono irrimediabilmente stupidi, sono irrimediabilmente, ciao Vittoria, sono irrimediabilmente non alla mia altezza. sono le 15.09, quindi tra un minuto dovrebbe comparire. Beatrice, tu ce l'hai il numero di telefono di Giancarlo di Maggio? Chiamalo. Deve aver digerito il suo pranzo greco e lo vogliavo. Ecco, per esempio, va bene, ieri sera ho fatto una prima visita con presumibilmente un narcisista. Il problema infatti non era fare la terapia ma iniziarla. la persona è venuta, non su sua iniziativa, è stato caldamente pregato dalla sua fidanzata e probabilmente c'erano le scatole piene. E già si profilava una terapia di tipo diverso. Mentre dicevo con l'anzioso sono un alleato, c'hai troppa ansia, mettiamola, ridimensioniamola, ma lui, questa persona, ha cominciato già dopo dieci minuti a sostenere che la sua ansia, il suo nervosismo fosse più che giustificato. Alla fine non lo presenterò, io sto lì. Cosa stavo dicendo? Ah, ha cominciato a difendere le sue idee, cioè è giusto essere cambiati, gli altri sono effettivamente persone di scarsa sensibilità, anche la mia fidanzata non è sempre all'altezza, eccetera, eccetera, una persona un po' troppo semplice e cose di questo genere. Ecco, in un paziente di questo genere la domanda che arriva sempre è ma se il problema sono gli altri, perché viene lei in terapia? Questa domanda va fatta al tempo stesso con delicatezza, ma anche con una certa assertività. Deve essere una strana mistura tra cortesia e fermezza, perché il patto terapeutico non può ridursi a rovesciare una valanga di infursi sul mondo, che non è come io vorrei, ma deve essere, se io sto male, vuol dire che il mio modo di rilazionarmi agli altri mi sta rovinando la vita. Per esempio, un altro narcisista, io non è che poi ne ho avuti tanti in terapia, un altro narcisista che avevo avuto in terapia era venuto perché, al culme del suo narcisismo, aveva rovinato i rapporti con tutti i suoi amici. In particolare, pochi giorni prima del colloquio, aveva rovinato con una piazzata il suo compleanno. Durante il suo compleanno aveva avuto un improvviso attacco di indegnazione verso la stupidità dei suoi amici. Speriamo che fosse Giancarlo. No, sta arrivando, si è riuscato. Chi? Ah, meno. Comunque, questo paziente narcisista, in particolare ce l'aveva con un suo amico che lui sosteneva di essere troppo stupido, infatti lo aveva soprannominato mononeurope, almeno così sosteneva lui, però è durante la festa di compleanno era esploso, in una tempesta di indegnazione, l'aveva accacciato dalla festa di compleanno, a vedere l'arrivo, ecco qua. Dottor Ruggero, dobbiamo parlare assolutamente nei microfoni, c'è la diretta Sicilombattia. La diretta Sicilombattia. Dovete parlare vicino? Fatto da breve. Cioè siete arrivati milanesicamente puntuali, una cosa che mi ha dato da Roma sono terrore di origine, questo è quello che ho fatto, quindi, perché per me la puntualità è un concetto, come dire... Molto elastico. No, è proprio culturalmente difficile da conceptualizzare, però devi parlare del microfono. Sì, parlo del microfono, la puntualità anche del microfono è il concetto di una strada. D'un microfono in culturalmente non funziona. No, ci facciamo un po' di distanza, adesso lascio parlare. Stavo comunque, ho fatto una breve introduzione sul narcisismo, in attesa della tua comparsa. Stavo dicendo come spesso questi pazienti trovino difficile collaborare in terapia, mettere in discussione i pensieri che rendono la loro vita difficile, però adesso quasi quasi lascerei semplicemente la parola a te, e basta. Comunque, l'ultimissima cosa, questo paziente di cui stavo dicendo, aveva distrutto la sua vita sociale, cacciato fuori tutti i suoi amici dalla festa di compleanno, sostenendo che non è una lattezza della sua attenzione intellettuale. Dopodiché comincia la terapia, ma trova molto difficile mettere in discussione il suo modo di ragionare. Per lui è giusto fare così, quindi mi sembrava una tipica situazione da paziente narcisista. voglio fare la terapia per cambiare gli altri. Comunque, qui c'è una persona che se ne intende più di me. Poi dobbiamo parlare non solo di narcisismo, ma del libro, che è un libro clinico, ma anche popolare nella migliore accezione del termine. Cioè, non vuole parlare in maniera gergale tra noi, ma rivolgersi al pubblico. Allora, io ci tengo a precisare che da ragazzo sono partito con un certo grado di ambizioni intellettuali, in gran parte trasmesse dalla famiglia, narcisisticamente, in parte autoindosse, narcisisticamente. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, ho incontrato Vanna Marchi. E ho capito che c'è una Vanna Marchi dentro di me. E che le copie del libro saranno in vendita, ecco. A un certo punto della conversazione mi metterò a urlare, venderò anche delle pentole. Spero di non fare la stessa fine di Vanna Marchi. Allora, Giovanni aveva promesso che mi avrebbe fatto un sacco di domande, avrebbe parlato lui a posto mio, ma non è vero. Però, mi sta dando la parola, io carinamente la colgo, sono molto felice. Allora, fare cambiare l'idea, narcisisti, mi aggancio subito all'osservazione clinica di Giovanni, è chiaro che non c'era una vole parata, è l'ultima cosa che bisogna fare. Non ci interessa, non ce ne prega niente. Dal punto di vista della comprensione della psicopatologia, soprattutto se abbiamo la speranza di curarmi. Adesso, è chiaro che non conosco il vostro background, non so come vi immaginate il mondo del narcisista visto dall'interno, c'è visto dalla prospettiva del narcisista, e non so neanche se vi immaginate come si cambia. Però, è facile che abbiamo, che del narcisista ci colpiscono alcune caratteristiche che sono anche quelle che ci urticano di più, quelle che ci fanno male, quelle che ci dà fastidio, quelle che proprio che riflettiamo, e quindi quegli aspetti di superiorità intellettuale, di arroganza, di tendenza allo sfruttamento interpersonale, di questa pesa, mancanza di empatia, di mancanza di empatia verso le persone vicine, di mancanza di empatia verso la compagna. lo so che volete andare a parlare lì, in particolare la parte femminile del pubblico, cioè è chiaro che l'interesse è ho conosciuto X, X è narcisista, mi tratta male, come faccio a capire come farmi non trattare male? Allora, intanto nell'85% dei casi X non è narcisista, è maschio. Quindi, se vede le partite del Milan, visto che siamo Milano, o dell'Inter, non è per mancanza di empatia, non è che lo fa proprio come segno di disprezzo nei vostri confronti, è che proprio gli piace il pallone, cioè proprio quando vede il Milan gli si attiva qualche cosa di strano, che è diverso da quello che può provare verso la compagna, che magari ama anche, ma la domenica sera alle 8 e mezza il posticipo serale c'è il Milan. E quindi l'altro, il compagno, la compagna viene trascurata, ma non per tratti narcisistici, ma perché è maschio, maschio italiano, ecco questo è importante, maschio americano per esempio, c'è il baseball, non so com'è la definizione narcisistica o normale del maschio americano, ma è maschio italiano cercato. Allora, stupidaggini a parte, anche stereotipiculturali a parte, sono caratteristiche che, come dire, possono anche, le possiamo trovare raggelanti, cioè se noi ascoltiamo la vita di un narcisista raccontata da chi ci è a stretto contatto, è un mostro, né più né meno, con capacità di disprezzare, con capacità di disinteressarsi, con capacità di aggressività, di arroganza, di indifferenza emotiva, inaffidabile, infedele, traditore, sempre pronto allo scontro, al combattimento, alla polemica, alla sfida. e quindi, terapeuta, ha, in qualche modo, quello che ci portava Giovanni, quell'impulso, malsano, di volere correggere questa visione del mondo. Magari, di volere promuovere la teoria della mente. Magari, di volere promuovere l'empatia verso l'altro. Quindi, rendere, queste persone, magari anche di correggergli l'immagine grandiosa di sé, che, da bravi cognitivisti, penseremmo essere una bias cognitivo, una distorsione cognitiva, una visione del mondo, come dire, irrealistica, un po' disfunzionale. E quindi, come terapeuti, gliela vogliamo, un po', riportare in asse, riportare verso una rappresentazione di sé. se vogliamo, più realistica, più corrispondente a quanto quella persona realmente vale. Quindi, ripeto, in una prospettiva di voler depatologizzare il narcisista, potremmo avere la tentazione di correggere l'autostima e di promuovere una comprensione degli altri. Bene, se c'è un modo per rompere prematuramente la terapia con un narcisista, ecco ve lo servito. Provate a correggere l'autostima e provate a dirgli che magari gli altri potrebbero essere trattati con più comprensione, gentilezza, che magari la compagna che il lunedì sera, che tu sei tornato dal lavoro, che è tanto importante, tanto stressante, poi i tuoi colleghi, i colleghi che sono intorno a te sono dei tanti deficienti, quindi ti rendono la vita difficile, tu torni a casa, ti aspetti che la compagna cosa abbia fatto? Eh? La parmigiana di melanzane, almeno al sud della parmigiana di melanzane, lunedì sera, no magari il martedì, lunedì è più leggero, magari il minestrone, perché la domenica c'è il pranzo della domenica. A Milano, non so cosa si mangia lunedì sera, mi manca questo, però comunque gli aspetti che abbia cucinato e magari la tua compagna ha lavorato, ha, Enrico è venuto a casa, ha pure i pupi a cui badare, quindi è stremata magari, ha pure lo stress perché la mamma a sua volta sta male, gli rompe le scatole e quant'altro, tu vedi che non c'è la cena e ti arrabbi. Perché? Perché sei stato trascurato. Allora il terapeuta magari può essere tentato dal voler promuovere una comprensione più realistica, guarda però magari la tua compagna ti ama eccetera eccetera magari li stanca, ecco questo è un ottimo modo per mandare il narcisista su tutte le fugie. Quindi apparentemente stiamo andando a correggere in questo caso una carenza di teorie della mente, quella che in metacognitivese chiameremmo una carenza di decentramento, una difficoltà ad assumere il punto di vista dell'altro e magari anche ad assumerlo empaticamente e il risultato ripeto ancora una volta che mandiamo il narcisista su tutte le fugie. Ovvero abbiamo compiuto un'operazione iatrogene e nella migliore dei casi il paziente siamo in diretta ci vada a fare il culo o più elegantemente troppa e non è quello che vogliamo almeno spero che non è quello che vogliamo per poter sperare di trattare un narcisista dobbiamo averne una comprensione dobbiamo saperlo come dire saperne dissezionare il funzionamento saperne smantellare la psicomatologia se sappiamo quali sono gli elementi che sostengono il narcisismo sappiamo dove andare a trattare dove andare a incidere massimizzando le possibilità di successo e riducendo al minimo i rischi di rottura sarebbe il paziente che vi ci manda allora quali sono gli aspetti del narcisismo che noi in terapia metacognitiva interpersonale poi come dire riassunti nel libro che ha detto Anna Marchi l'illusione del narcisista che in terapia metacognitiva interpersonale consideriamo i target del trattamento e qui si crea un piccolo spiazzamento ovvero il narcisista descritto dal clinico non è esattamente il narcisista descritto nei manuali non è esattamente il narcisista descritto da chi ce l'ha intorno ovvero un mostro andando da vicino vogliamo capire che problemi ha cos'è che li fa star male e stanno male soprattutto a causa di due tre schemi interpersonali interiorizzati che guidano la loro attribuzione di significato a sé e al mondo che significa detto in italiano che nel momento in cui entrano in relazione con gli altri sono guidati da schemi sono guidati da aspettative cognitivo-affettive sono guidati da previsioni sul modo in cui i loro desideri verranno rispecchiati dall'altro farla facile 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 se il desiderio attivo è nell'area del bisogno di cure ovvero se sono guidati dal sistema motivazionale del accudimento è quello che vi viglia quando il pupo frigna il pupo frigna vi intenerite e dice povero cucciolo e l'accudite quello è l'accudimento quando invece frignate voi e volete che l'altro si prende cura attaccamento nel senso che invece si mette l'attacca dal muro è l'attaccamento allora quando per esempio il narcisista viene acchiappato preso colto dall'attivazione del senso di vulnerabilità di fragilità di sacchezza debolezza bisognosità ai lui ai lei gli si attiva l'attaccamento che è il desiderio quindi viene spinto nella relazione perché ha bisogno in uno stato di sofferenza fisica o emotiva che l'altro si prenda cura di quindi wish desiderio scopo prevede che o legge rapidamente che l'altro risponda a quel desiderio come quindi si sta delineando uno dei primi schemi interpersonali del narcisista quando è attivo l'attaccamento desiderio essere accudito mi sento vulnerabile desiderio essere accudito e l'altro come me lo raffiguro se me lo raffiguro amorevole pronta a darmi cure non c'ho un narcisismo sto da dio non ho da dio narcisistico sto bene però che bello sto male la mia compagna mi coccano wow no questa è l'aspettativa dei maschi italiani quando si sposano tra l'altro perché poi la moglie la futura moglie si occuperà di loro nel momento di sofferenza questo è quello che accade durante il fidanzamento dopo il maschio sofferenza diventa un peso tipica rappresentazione dell'altro sembra che sia andato in guerra dite che non è vero e faccio un casino rappresentazione dell'altro adesso scherzando però torniamo alla parte più seria rappresentazione che la cisa dell'altro quando lui o lei è vulnerabile e qui comincia i guai si rappresenta l'altro come dominante tirannico che come dire che manipola cioè stai male quindi ti curo ma fai quello che voglio io o che ignora stai male che me ne prega oppure stai male e l'altro ti svaluta brutto deficiente invece di affrontare la vita in maniera virile guarda quanto frigni questa è una rappresentazione tipica di come si cresce un narcisista per bene oppure c'ho altro da pensare non mi interessa un'altra rappresentazione dell'altro che si attiva quando il narcisista ha bisogno di cure ed è una di quelle che crea più guai è desidero essere accudito e la persona che vorrei si prendesse cura di me è vediamo se lo indominate perché è del tutto molto intuitiva guadagnando una copia autografata come ecco questa è molto intuitiva invece cioè io voglio essere curato dalla persona che disprezzo questa è facile non è così questo è come noi è la costruzione stereotipale che abbiamo del narcisista questo è invece quello che vengono a dire adesso ci spiazza proprio io desidero accudito e la persona che vorrei che mi accudisse me la rappresento come eh no tu non vada dichiara c'è una mia allieva che segue in supervisione spoiler però e questo è quello che abbiamo già detto indifferente disinteressato distaccato come dire cioè vorrei che si prendesse cura di me ma gli viene frega niente oppure magari cioè si vuole tanto prendere cura di me si occupa tantissimo di me che bello allora si cavo mi affido tanto anzi devo in chi cresce più ho trovato la mamma per festa e l'abbiamo detto indifferente distante distaccato non buono perché elaboriamo i docetti e qui ci abbiamo preso non ti tocca comprare una copia del libro che io voglio il tuo gabbino ho detto regalo la tua panamarche allora sofferente bisognoso quando mi svegliavo io paziente termine gru qualche anno fa quando mi svegliavo la mattina avevo sette anni dovevo preparare la colazione a tutti i miei fratelli minori vi sembra la storia del narcisista è la storia del narcisista perché perché mio padre era un alcolista quindi tornava a casa la sera completamente ubriaco io mi svegliavo la mattina e stava diverso sul divano qui mia madre usciva per lavorare io mi dovevo alzare e preparare la colazione ai miei fratellini lo stesso paziente ci racconta che una volta stava in spiaggia stava facendo il castello di sabbia ovviamente perfetto una bambina che stava giocando con lui schiacciò mette una pedale al castello di sabbia e lo rase al suono e lui disse l'avrei voluto uccidere credo anche di avere tentato di strozzarla allora questo comportamento mi hai distrutto il castello di sabbia perfetto uno lo vede come un tipico ricordo da narcisista il vero problema è che ti svegli la mattina e tuo padre sta ciucco sul divano e tu te ne vergogni drammaticamente quindi l'immagine sociale che poi dovrai presentare per medicare quella vergogna sociale è il castello di sabbia perfetto e non si occupa di te sei tu che devi farlo tedesci altro paziente questo ho visto tanti anni fa però me lo ricordo sempre dopo nove mesi di terapia nove mesi proprio terapia è andata anche bene a un certo punto ma senta no perché mi sta venendo in mente una cosa una persona colta intelligente insomma lavorava nel mondo della politica insomma era un giovane di sculto che insomma avrebbe avuto poi un suo percorso e io gli metto una cosa però guardi non gliel'ho detta perché voi psicone rapelvi poi chissà che ci costruite su queste cose non so se ne vale la pena dirglielo più o meno con questo tono ma poi avevamo una bella conversazione una persona simpatica brillante giovane intelligente mi dica perché mia madre comunque quando era un ragazzo stava male ma va bene in che senso stava male no vabbè così ogni tanto inseguiva me mio fratello per casa sopra del minore ah va bene come mai mi inseguiva per casa no ci inseguiva con il coltello ah come mai mi inseguiva con il coltello perché pensava fossimo posseduti dagli alieni la madre soffriva di schizofrenia paranoica paranoica vi sembra la storia del narcisista è la storia del narcisista ed è una storia tipica padre alcolista mamma schizofrenica altro paziente che ho seguito via skype all'estero praticamente mi dice tutta la perché mia madre decideva tutto per me perché comunque io non avevo capito mi ha detto che dovevo diventare medico io poi non ce l'ho fatta quindi sono un fallimento eh bla 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 fatto sempre com'era l'atmosfera a casa di terrore puro perché io non dormivo perché non dormivo perché mia madre restava sveglia tutta la notte a girare per la casa lui stava in Australia oltre tutto quindi lasciando delle vetrate della madonna a vedere fuori della finestra se c'erano i ladri quindi non dormiva la madre era la noia no? e lui quindi da bambino si ricorda che stava fino a sera tardi con gli occhi sbarrati a guardare fuori se gli alberi si muovevano che poteva essere segno dei ladri che arrivano in casa ok? tema di vita di nuovo fallimento narcisistico ok? vi state facendo un'idea? a una persona del genere vi immaginate che hanno questo portato questa storia questo passato arrivano in terapia da voi e voi preoccupati agghiacciati irritati dai loro racconti vi viene l'impulso di promuovere una comprensione più umana dell'altro il punto che loro non hanno una rappresentazione dell'altro come altro nella sua unicità hanno una rappresentazione dell'altro secondo il fantasma che si portano dietro quindi la compagna che non gli ha preparato la parmigiana di melanzane o l'ossobuco tipicamente il lunedì sera si mangia l'ossobuco adesso penso che la parmigiana è la codonetta la milanita è fredda il lunedì sera secondo me non si fa si fa il venerdì il lunedì non si fa giovedì sera giovedì sera è la codonetta la milanita Giovanni queste battute hanno mirato cioè come sono considerate sono di basso livello vede il livello torna da casa non lo so dicevo non è la compagna che non vi ha preparato il piatto caldo cucinato con amore e con competenza è la madre che passava le giornate a casa col mal di testa depressa chiusa nella stanza da letto e si attivava per occuparsi a sua volta della propria madre che le dava il tormento ovvero della nonna del nostro paziente narcisista ok quindi non stanno facendo i conti con in questo caso una donna con le sue stanchezze fragilità vulnerabilità malumore sofferenze ciclo mestruale e tutte queste cose di solito associato il concetto di donna ma sta facendo i conti con quel fantastico ok quindi voi non gli state suggerendo allarga gli occhi apri gli occhi e vedi che c'è un'essere mamma davanti a te gli state dicendo aveva ragione tuo padre a bere aveva ragione mamma a stare male tu dovevi occuparti di lei aveva ragione mamma a temere i ladri aveva ragione mamma a inseguirti col coltello ok questo ti state dicendo né più né meno quindi nella migliore delle ipotesi vi mandano a quel paese nella peggiore delle ipotesi restano in terapia e voi vi state facendo peggiorare semplice e questo è uno dei primi schemi quindi detto da un'altra prospettiva se nell'accisista si attiva durante la relazione terapeutica il bisogno di essere accudito curato trattato bene quindi l'attaccamento prendetevi paura preoccupatevi perché se voi venite che è una malattia che spesso prende gli psicoterapeuti specialmente gli psicoterapeuti giovani alle prime armi che hanno tanto slancio tanto voglia di fare stare bene le persone di accudirle di curarle di essere efficaci di fare del bene e anche magari portatori di un bellissimo sentimento proprio di tenerezza umana di calore di generosità di afflato proprio mempatico no? li accudite e succede un macello perché non li state accudendo ai vostri occhi sì ai loro occhi gli state attivando dei fantasmi molto minacciosi perché adesso ho insistito un po' su uno dei più tipici dei più potenti dei più perniciosi cioè la rappresentazione dell'altro che dovrebbe prendersi cura di loro come sofferente poi ci sono quelli precedenti altro punto desidero essere apprezzato siamo nel sistema motivazionale del se io desidero essere apprezzato desidero che venga riconosciuto il mio valore all'interno di quale sistema motivazionale qual è il sistema motivazionale che mi sta spingendo? l'ambizione quindi agonismo rango sociale ambizione agonismo parlo parte del sistema del rango sociale il rango sociale è importante perché definisce cosa? è lo status no lo status è un simbolo la superiorità la superiorità definita però perché ci serve essere superiori? la supremazia sempre lì stiamo ci interessa essere superiori avere supremazia sugli altri dominare perché etologicamente il sistema del rango sapete cosa definisce? l'accesso alle risorse la competizione serve a definire chi mangia prima e chi si accoppia prima con il partner preferito quindi domino perché a quel punto il boccone primo è il mio ok? questo ripasso di psicologia evoluzionistica gli orti potrebbero dire cose molto più particolate delle mie quando il narcisista è attivato quindi dal bisogno di approvazione di apprezzamento di riconoscimento come si prefigura l'altro? è qui si biforca come o mi ammira per le mie qualità eccezionali quindi tutta la storia del narcisista cresciuto con i genitori che proiettano in un certo senso nel figlio le proprie ambizioni o magari le proprie ambizioni non soddisfatte ok? quindi desidero essere apprezzato e l'altro mi ammira o mi idolatra ok? e questo ripeto è la parte di rappresentazione che fa meno danno perché poi c'è l'altra parallela desidero essere apprezzato ma se mi mostro per come sono l'altro mi disprezza quindi il narcisista è costantemente all'inseguimento di quella rappresentazione dell'altro che rispecchia la grandiosità ma costantemente vive sotto la minaccia dell'affiorare del manifestarsi dell'altro sprezzante critico svalutante invalidante e so cavoli pure qui per cui desidero essere accudito e l'altro mi ignora o sta male al posto suo desidero essere apprezzato valorizzato se mi dice proprio fortunissima che a quel giorno proprio veramente ho fatto la super prestazione della vita l'altro mi dirà che sono appunto superiore eccezionale di un rango elevato ma più facilmente mi dirà che sono un deficiente ok? e questo non è che ti fa stare proprio se di uno se di uno sempre quindi attaccamento macello rango sociale se ti dice bene vinci se ti dice male sei distrutto sei una nullità non vale niente perché poi non è che diciamo il genitore per virgolette del narcisista ci va troppo come dire equilibrato o ti ammiro o più facilmente ti disprezzo ti faccio capire che se poco poco scendi sotto standard ti disprezzo e qui un'altra briciola di connessione con la clinica se vuoi andare a dire al paziente guarda ma tu forse non è che hai proprio bisogno 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 di sentirti Dio magari puoi vivere pure con una rappresentazione un po' più modulata di te ok? questo è quello che un terapeuta come dire che vuole promuovere una rappresentazione più realistica o razionale potrebbe fare quello che il narcisista legge in un intervento del genere è cioè in diretta il terapeuta mi sta dicendo che sono un coglione così cioè voi mandate un messaggio e all'interno dello schema interpersonale che è la lente attraverso la quale il narcisista vi legge gli state dicendo sei un deficiente e quindi non ottenete una visione più matura e realistica della propria stima ma ottenete una battaglia per evitare di essere disprezzati attaccamento cavoli amati rango sociale se li rinforzate nella grandiosità si cappa se poco poco gli dite si guarda grandiosi però un attimino magari la vita è pure un po' diversa guerra insegurale un altro elemento devastante della vita del narcisista avviene in una terza area diciamo in un terzo sistema motivazionale che è uno di quelli più trascurati secondo me negligentemente in psicoterapia voi voi avete penso abbiamo un po' la rappresentazione dell'arcisista come una sorta di caterpillar c'è uno c'è uno che si mette in testa una cosa e va avanti come un trattore triturando sotto i cingoli chiunque gli si metta davanti giusto? ce lo raffiguriamo così immaginate Trump che ha deciso che gli scappa di fare un muro tra gli stati e il Messico no? perché notoriamente i messicani camminano dalla luce del sole non è che poi i narcotrafficanti scavano i tunnel no per carità passeggiano felicemente e chiunque si trova a far trampe il muro lo radia al suono però immaginate così il narcisista o qualcosa del genere no? no quella è in alcuni in molti casi per carità il comportamento di facciata che è cercheremo di se riesco a dare il tempo ve lo spiego meglio un comportamento di coping cioè che corrisponde poi a quello che in TMI definiamo parte della risposta del sé e la risposta dell'altro cioè mai fatto così per gestire il dolore che mi hai dato con la tua risposta utilizzo questo comportamento ma il vero problema è che quando il narcisista è guidato dall'obiettivo dal wish dal sistema motivazionale a muoversi autonomamente secondo uno slancio proprio sentito vero sentito bello sentito vitale un motorino allegro animato curioso che si muove dall'interno che è la motivazione il sistema motivazionale dell'autonomia e dell'esplorazione che è un sistema motivazionale che va tanto bene sul serio abbiamo bisogno di tenerlo vivo per tutta la vita la risposta dell'altro è dove vai che stai a fa non va bene la tua direzione bravo deficiente mi aspetto che mio figlio passi fine settimana a studiare sui libri perché lunedì mattina l'interrogazione di inglese dovrà prendere nove no mio figlio undici anni anima di Dio sto fine settimana a Roma ci sta il festival dei fumetti Romics che è una Roma molto seria anche per un adulto maggiore ragione per un ragazzino di undici anni figata perché era mai pieno di cosplayer quindi in carnevale al cielo aperto divertentissimo e io gli dico scusami Romics tu devi studiare come ti passa per la testa di essere così maturo infantile da avere questa che cosa vai a vedere quei deficienti tutti quanti con i costumi da marinaretta giapponese no? tipo che è con quegli sciroccati e stai a perdere tempo con quegli altri perdi tempo dei tuoi compagni di classe ok? allora in realtà in quel desiderio di andare a vedere Romics si annida qualunque si annida la curiosità si annida il mondo di fantasia si annidano i germi della costruzione fantastica del futuro dei due progetti di vita si annida tutta la capacità di giocare e poi gli state dicendo che cavolo fai no? non è una roba seria non è una roba interessante che significa che ti ho esplorato ti ho inibito l'autonomia attraverso il disprezzo quindi io parcio il bambino che mi parte con la motivazione dell'esplorazione autonoma e il genitore la invalida e sovrascrive il bisogno di soddisfare il sistema del rango sociale devi fare una roba che ti parla di diventare il migliore della classe così sarai un figlio minimamente degno di quello che mi aspetto da te il paziente mio l'ho descritto non in questo libro non mi ricordo adesso comunque in un articolo di qualche anno fa aveva preso i migliori voti del liceo migliori voti del liceo non della classe del liceo telefona al padre ah papà sai ho 15 anni 16 anni se ho preso il liceo sai papà ho preso i migliori voti del liceo senti papà però adesso che bello così posso farmi mi sono meritato una vacanza di una settimana con gli amici quest'estate la reazione del padre fu ah ma come ti viene in mente c'è una reazione del tipo eh sì adesso possiamo fare quello che cavolo ci pare il mondo perde senso cioè è chiaro è chiaro che adesso stai aprendo le porte del caos allora hai preso i migliori voti del liceo ti aspetti una festa ti aspetti un bravo no ma la cosa bellissima è che poi andando a come dire andare a scagnerizzare esperienzialmente quell'episodio cioè quella telefonata fra lui e il padre quello che lo colpiva quello che l'ha realmente colpito è danneggiato nella reazione del padre non era la rabbia e non era il disprezzo era un'altra cosa secondo voi cosa ci ha sentito in quel tono di voce del padre il mio paziente che emozione ha letto no cioè sì ma non era quella quella era una cosa più evidente il disprezzo sì c'era ma non è quello che l'ho veramente scosso questa sia una realtà di accendimento del padre no non era quella ok ma accordo nel tono di voce del padre che ha sentito la rabbia e l'invidia no l'invidia non c'era la rabbia sì per carità quella è la cosa più evidente appunto il disprezzo chi l'ha detto ha sentito la paura ha sentito la paura cioè il padre stava andando incontro alla disegregazione del senso cioè se cominci a ragionare così quali sono i pilastri dell'esistenza diventa tutto fuori controllo il padre era terrorizzato cioè la performance serviva a appietare la goscia allora se io non sono perfetto sì sono disprezzato sono aggredito sono accusato ma soprattutto faccio del male a mio padre lo spavento lo preoccupo se sono autonomo l'altro si preoccupa facciamola più facile vengo dal sud no no io per dire ma questa non è proprio la mia storia no sono sei ho 18 anni 19 anni mi sono diplomato che voglio fare da grande voglio diventare psicologo voglio diventare psicologo e facciamo un termine no vengo dalla bassa prianza non esiste una cosa che va da bassa prianza non lo so esiste vengo dalla bassa prianza paesino di 3500 abitanti no magari l'unico comune non ricco della prianza sta avventando una geografia del tutto che manco idolo calmino voglio andare a studiare all'università nella grande città perché mi incuriosisce la psicologia da un sacco di bei mancetti ho visto un letto di Borbi ho visto Paolo Crepente mi scappano queste cose mi incuriosisce la psicologia ho letto dei libri capito le canzoni la musica il treatment eccetera eccetera lo dico a mamma e mamma è di viglia l'infarto perché che ci vai a fare ma soprattutto mi lasci sola per cui desidero essere autonomo e l'altro si spaventa soffre si sente abbandonato guardate io quando dico sta cosa cioè questo faccio questo esempio da parte mia è una carognata dal punto di vista retorico perché se voi state studiando psicologia il 75% ha questo tipo di schema che quando siete autonomi l'altro sta male o vi facete che siete scemi oppure sta un disastro per cui lo so che in questo momento il livello di arousal medio della classe è salito a dei livelli che nemmeno due anni di MDR li possono riportare a livelli pretraumatici no? cioè è proprio una porcata da parte mia questo ve lo dico la differenza di Vanna Marchi svelo i trucchi del marketing allora quindi sostanzialmente il narcisista è l'eso nella speranza di poter realizzare almeno tre delle motivazioni che da adulti ci fanno star bene ovvero desidero essere amato e mi rappresento mi rappresenticchio un pochino anticipatoriamente il fatto che l'altro mi accudisce desidero essere apprezzato e più o meno immagino che sì a volte un po' di più a volte un po' di meno però mamma papà la zia il cane il gatto più o meno mi dicono dai figlio mio sono contento di te no? hai preso sei in mezzo dai bravo perché se ne frega no? papà ho fatto un gol mi rovesciava non stavo sul campetto ma dai grande vai mio piccolo Cristiano Ronaldo cioè non è che si gli dice mio piccolo Cristiano Ronaldo poi vi crescede un narcisista che è convinto di essere Cristiano Ronaldo vi crescede un bambino che quando sbruffoncello è contento eccetera eccetera gli altri bambini uguale però si gioca pari sul livello della sostanza tranquillo narcisista non ce l'ha sta roba no? golli e rovesciata che me frega allena di 12 ore al giorno come il padre di Agassi perché devi vincere le olimpiadi poi le ha vinte lo stesso ma poraccio che mi dica che ha fatto a parte i miei altri che guadagnano open di Agassi stupendo desiderate essere autonomi e l'altro vi dice no non va bene stai a perdere tempo quello che fai non vale niente quello che fai è una cosa stupida quello che fai mi lascia solo mi abbandona mi fa soffrire ok? il narcisista sta male perché nel corso della vita ha sedimentato queste previsioni ha sedimentato queste aspettative entra in relazione guidato da questi schemi entra in relazione guidato da questi fantasmi quindi gli è impossibile quasi vedere gli altri nella loro ricchezza di sfumature articolazione nel loro essere variopinti se volete curare il narcisista dovete relazionarvi dovete relazionarvi in maniera che il narcisista sappia capisca che per voi è importante dargli una speranza di realizzare questi bisogni primari ok? quindi non devono sentire che devono diventare meno arroganti o meno ambiziosi o essere più carini gentili e comprensibili nei confronti degli altri devono essere aiutati a capire che se sperimentano un momento di sofferenza un momento di slancio un momento di vitalità un momento di gioco un momento di fallimento un momento di sconfitta la loro esperienza interna ha ancora un senso quindi il narcisista non ha non deve anzi deve non essere curato per farlo diventare più empatico ok? questo è un antiscopo il terapeuta deve non avercelo non devono diventare delle persone umanamente migliori non deve essere uno scopo del terapeuta lo scopo del terapeuta è quello di farli sentire umani cioè di far sentire che la loro esperienza interna ha un senso l'effetto collaterale del fare sentire che la loro esperienza interna ha un senso sarà che gli si apre il cervello e cominciano a vedere gli altri cominciano a vedere che gli altri non sono quei fantasmi preoccupanti minacciosi sprezzanti valutanti sofferenti disinteressati con i quali giorno dopo giorno della loro vita si relazionano questo innanzitutto richiede ovviamente uno shift dell'attenzione del terapeuta ok quindi il terapeuta deve non focalizzarsi sulle manifestazioni più clamorose del narcisista che sono disprezzo svalutazione aggressività arroganza quelli non ci riguardano li metteremo a posto per quello che sono meccanismi secondari meccanismi di gestione del dolore nient'altro che quello mentre invece sarà nucleare riuscire a portare il narcisista sul piano della riattivazione dell'agency sulla riattivazione del sistema esploratorio cioè sentire che la loro azione generata dall'interno è finalizzata alla realizzazione di scopi non grandiosi c'ha un senso cioè in altre parole che la loro vita funziona meglio questo un po' lo dico sempre mi piace se sono guidati dal piacere sensoriale della vita dal gusto di correre con gli amici sul campo di calcio dal gusto di impastare la pasta fatta in casa e di cucinare la cenetta per gli amici ok dal piacere di andare a fare una passeggiata sul lungomare al tramotto con la vostra ragazza con il vostro compagno invece che passare la vita a fare Rocky che sale la scalinata per vincere il campionato del mondo no? fino a un po' datato spero che l'abbiate visto no? poi si fa sempre il tempo a colmare le lagune culturali eh perché allora sto riuscendo a darvi un quadro di cosa ci serve nell'impatto del narcisismo e cosa il narcisista e cosa invece è meglio non coltivare già vi state là cioè sto divincendovi il narcisista e anche come un po' relazionarci sì va bene come volevo solo dirti puoi andare avanti oltre le 4 e mezzo perché si sono liberate le aule mi sembra che la direzione ce l'hai già da solo quindi ma vorrei se fai delle domande cattivissime tra un po' devo andare stiamo facendo magari te le faccio in anticipo poi dopo poi risposto non lo so si può insultarmi in mia senza però in diretta si ce l'ho barbata no è molto chiaro hai descritto il narcisista adesso stai facendo il trattamento penso che dopo poi dirai un po' anche il senso del libro perché a differenza di altri libri più tecnici due questo invece vuole essere più aperto al pubblico non tecnico ma comunque l'unica cosa che volevo dire è che questa raccomandazione a non voler essere accuditivi può essere non è affatto una domanda cattiva anzi credo che quando incontro al mio sforzo culturale di diffondere un maggiore livello tecnico nel cognitivismo italiano in cui appunto prima di essere accuditivi stare accanto proprio al momento tecnico che poi chiaramente alcuni accorgimenti tecnici però valono meglio per gli ansiosi anche per i narcisisti questo appunto è un problema tecnico quindi ti lascio proseguire se mi viene in mente una domanda che attiva poi torno un po' e entra la domanda allora quindi grazie Giovanni grazie soprattutto per l'invito poi è veramente una bella occasione allora la prima cosa in qualche modo che noi vogliamo riaccendere nell'arcisista è il sistema esploratorio la curiosità una visione del mondo in cui il mondo la vita vale la pena di essere vissuta non perché raggiungi il top e tanto quello non basta mai ma perché la vita ha una sensorialità una sensualità una è interessante nell'atto di affrontarla lo so che te lo sembra anche un po' retorica ma alla fine la terapia del narcisista quello è cioè deve avere il gusto di cucinare non perché vuoi vincere Masterchef o perché vuoi aprire un ristorante stellato a fianco a quello di Cracco magari ma perché ti piace perché ti diverte perché quando senti il profumo del basilico il profumo del finocchio selvatico che bello ti immagini gli amici che stanno a cena con te no? non mi piace cucinare penso che questo si dice e non è facile raggiungere questa attitudine terapeutica non è facile per vari motivi la prima è per una mancanza di concettualizzazione del narcisismo ok? cioè nel senso che non sapete che certe cose non vanno fatte ed è bene farne altre ok? quindi avete l'idea che il problema è l'autostima gonfiata e cercate di abbassare l'autostima questo è un errore da mancanza di conoscenza ok? semplicemente avete letto il libro di Beck e Freeman quello dei 90 sulla terapia cognitiva dei disturbi di personalità e credete che quella sia la terapia dei disturbi di personalità no? non è quella semplicemente non c'è nessun baghias cognitivo da correggere quindi questa è la prima cosa e quella ripeto però se uno sa cos'è il narcisismo in una visione oramai che diciamo comincia a nascere già dalla guarantina da degli iscritti di Coat soprattutto e già questo ci aiuta poi però il punto che anche se noi da terapeuti sappiamo che il narcisista è guidato dagli schemi che vi stavo portando adesso soprattutto quelli poi entra in seduta con noi e lo fa con un certo stile se nella concettualizzazione dell'esperienza narcisistica noi dobbiamo partire da desiderio risposta dell'altro sofferenza quello che il narcisista ci porta nella relazione terapeutica è la risposta del sé alla risposta dell'altro ovvero mi aspettavo che mi accudivi mai ignorato che faccio per gestire questo essere stato ignorato mi aspettavo di essere valorizzato mi disprezzi che faccio per gestire questo disprezzo mi aspettavo di essere supportato nella mia autonomia mi ripresenti dominatore manipolatore o sofferente che faccio per gestire la mia reazione al tuo essere dominatore manipolatore o sofferente allora questa roba qui sono meccanismi di coping ok sono meccanismi protettivi chiamatevi corpi pare coping master di metacognitiva difese se avete un medaglian analitico no questi meccanismi di coping sono quello che del narcisista affiora nella relazione interpersonale ok cioè come ve l'ho fatta io come ve li ho descritti e già perché abbiamo come dire avuto un insight nel loro meccanismo di funzionamento e negli schemi che li guidano ma il punto è che da terapeuta questi schemi non li vedete quello che va arriva addosso sono i modi in cui il narcisista gestisce gli schemi o meglio quella parte dello schema che è la risposta del sé e la risposta dell'altro i guai i casini la parte più disfunzionale e anche sgradevole dal punto di vista relazionale sta lì in quello che i narcisisti fanno per gestire la sofferenza e il terapeuta quella roba si trova nella stanza e quella non è piacevole perché il narcisista per gestire la sofferenza dovuta dalle previsioni che l'altro non supporterà i desideri che abbiamo adesso descritto avrà bisogno di utilizzare dei meccanismi di protezione che meccanismi di protezione mi ha finito il narcisista niente di simpatico mi sento disprezzato come reagisco? aggredisco se va bene aggredisco perché dico se va bene aggredisco? perché se ti aggredisco vuol dire che non sto soccombendo ti aggredisco perché? perché penso che quella tua svalutazione sia ingiusta quindi la reazione aggressiva in realtà anche se è dal punto di vista realistico tra virgolette di un danno bestiale nelle nazioni in realtà ancora un po' si è ancora una parte sana cioè io desidero essere apprezzato sento di avere valore mi tratti come un deficiente tecemando tecemando devo tradurlo domani? quello che arriva al terapeuta è tecemando e se voi però andate a curare il tecemando che state facendo? adesso guardate detto così fa pure ridere ma c'è un sacco di terapeuti che fanno delle boiate pazzesche a questo livello per errore della concettualizzazione del caso perché? perché il comportamento tecemando significa arroganza rabbia mancato rispetto degli altri disprezzo a tratti anche aggressività e violenza ok? tutta roba brutta tutta roba che era clinico non è che sia così felice di testimoniare ok? ma se noi diciamo quindi caro signore cara signora lei c'ha un problema di regolazione della rabbia c'ha un problema di regolazione di mancata regolazione dell'aggressività ha un problema di difficoltà a rispettare i limiti degli altri ha un problema di controllo degli impulsi dovremmo rendere questo il nostro obiettivo di trattamento magari il paziente è venuto in terapia perché quello gli hanno detto guarda io ho mia moglie che mi ha detto che sono troppo aggressivo mi devo fare curare è vero caro signore lei è proprio troppo aggressivo però che bello che fortuna che se me ne renda conto facciamo un piano per ridurre l'aggressività per migliorare la regolazione emotiva posso dire una cosa proprio antipaticissima magari avete avuto proprio un corso di dbt che vi ha preso la lettata di dbt che quel giorno ha passato per Milano no? cioè a casa mia c'è lo scirocco ogni tanto ma è stata dbt quindi l'obiettivo della terapia è la regolazione emotiva no? e dice no no dobbiamo ridurre la rabbia che gli stai facendo? ma adesso ripetete un modello eccezionale ma adesso avviate l'ironia che gli state facendo? gli state no no gli state aumentando le difese gli state minacciando i meccanismi protettivi immaginate come si chiama i film di supereroi no? cioè togliete lo scudo a Capitano America la moto a Batman scusate il martello a Thor a parte il simbolo fallico ma che pure potrebbe renderla male sentirsi un po' migliore lo scudo a Capitano America oh i poteri magici a Doctor Strange l'armatura ad Iron Man poi gli arrivano i super cattivi e che fanno? ci piglia una sfraganata di mazzate per cui ah sai tu ti credi un supereroe però forse dovresti buttare giù l'armatura aspetta un attimo scusa pieno di supercriminali da fuori no? che vuoi da me? bzzz ti blasto con raggio distruttore con raggio repulsore noi da noi dobbiamo essere filologici ah no chiaro? quindi voi pensate che state facendo una cosa buona magari il paziente stesso ve lo chiede e gli state dicendo fai male a proteggerti risultato terapia iatrogena ok? ho capito quindi voi che i narcisisti continuano a maltrattare le persone che c'hanno intorno no nel modo più assoluto no voglio fare in maniera che smettano di essere maltrattati verso gli altri nel tempo più veloce possibile ma facendo le cose giuste io sono qui alle 5 credo che tu alle 5 saranno ancora nel tema vediamo vediamo dipende da voi io ti faccio una domanda cattiva perfetto tanto voi accunti tanto quante domande cattive voi quindi in qualche modo come istinto più naturale vi viene di lavorare sui meccanismi di covid perché contengono tutti i problemi interpersonali comunque paziente desidera essere apprezzato l'altro disprezza reazione o di incazzi meno male viene ancora da dire oppure piangere il narcisista queste cose qua non le fa per carità non si mostra la vulnerabilità ti chiudi e ti ti spegni ti butti giù credi che quel disprezzo che ti sta portando la figura genitoriale sia meritato c'ha ragione e quindi mi sta dicendo che sono un deficiente e io sono un deficiente se io penso che c'è ragione a pensare che sono un deficiente che faccio? mi abbatto mi deprivo e mi spengo mi disattivo ok e questa è una desidero essere accudito l'altro mi ignora che faccio? mi arrabbio è una possibilità mi arrabbio che significa? tu continui a essere raccomandato mi ricordo desidero essere accudito e l'altro mi ignora che faccio? protesto e l'altro si incazza oppure mi ignora ancora di più mi curo da solo sì prima mi curo da solo ma soprattutto sì mi curo da solo assolutamente sì marangio sarebbe no? marangio con un R solo ci devo precisare cioè scientificamente non è marangio del marangio no? mi allontano mi allontano e la prossima volta che ho un dolore che faccio? lo manifesto? no no non te lo dico più non te lo dico più ma non solo non te lo dico più mi mi alleno a non esprimerlo mi alleno a non sperimentarlo e lentamente anno dopo anno disimparo a sentirlo perché? perché tanto se io ce l'ho chi mi ascolta guardate poche volte nella vita vi dico quanto è importante l'attaccamento perché tanto ci sta già l'ottica lo dice per gli altri no grande lezione per carità sto male bambino piccolo tre anni si sveglia nel corso della notte piange che è successo? quanto amore che c'hai? che c'è? cominci a capire lo vedi spaventato quanto amore aveva fatto un incubino e che ti sei sognato? e ti dice il sogno quanto amore non c'è paura no ma c'è paura che c'è di mostra nella stanza sotto alle vieni amore adesso papà ti accolisce accendiamo la luce che succede? in tutto questo teatrino che vi sto facendo sostanzialmente il bambino impara che quella sensazione si chiama paura che quella sensazione è normale che quella sensazione è modulabile perché mamma papà la figura di attaccamento te l'ha accolta te l'ha nominata te l'ha accettata ti ha tranquillizzato e te l'ha regolata e ti ha aiutato a dire che forse quell'emozione ti porta a un contenuto che non corrisponde alla realtà per cui la prossima volta che c'hai paura sai dire c'ho paura mi dai una mano così impari ma se tu c'hai l'incubino vai alla mamma e la mamma te guarda che c'è? andiamo a letto andiamo a letto no? si ma c'è una cosa brutta addosso non perdere tempo non mi fai andare così non sai che si chiama paura sai che è una cosa brutta sai che a mamma gli fa un po' schifo sta roba ok? non sai come te può passare no? rimane una roba brutta addosso più o meno senza nome più o meno senza soluzione no? ti impari a gestirsi dalla sola la prossima volta che c'hai quella roba là addosso da mamma non ci vai quando c'hai 25 anni e te miglia paura per una qualsiasi cosa a quel punto che c'hai una roba addosso roba addosso è traduzione italiana di arousal indifferenziato attivazione neurovegetativa alla quale il soggetto non riesce a dare un'etichetta emozionale l'ho detta carina così? sembrava una cosa quasi scientifica? quella roba là non c'è possibilità anticipatoria di chiedere conforto a uno nella relazione che ti succede ti rimane la rousal alto c'hai 32 anni c'hai 37 anni c'hai 45 no? ti sale la rousal all'altro non c'ha senso chiedere aiuto perché tanto l'altro ti ignora quella rousal che succede come affiora la mente c'ho un'attivazione neurovegetativa addosso che ci faccio? mi angoscio c'ho una malattia somatica vado dal medico mi piglia l'ipocondria oppure no ho capito che si chiama ansia che farmaci mi danno oppure ho capito che c'ho questa tensione addosso come si risolve la tensione psicosomatica? una soluzione quasi adattiva ragazzi vi drogate ma santo Dio c'è le cose buone della vita vi drogate c'avete l'attivazione neurovegetativa a raso indifferenziato venerdì sera vedi normale ti fai una pera da mazzi di carne tutte soluzioni sono ricordate soluzioni semi adattive si possono chiamare la vostra sto cazzeggiando adesso non è quello che penso di non essere come dire non è esperienza personale quindi ti teniamo utilizzi una regolazione che va direttamente sul livello corporeo qualcuno l'ha detto da delle provie vai a correre sì assolutamente fai esercizio fisico per calmare la tensione ma a parte che la chiami tensione nervosismo irritazione irrequetezza fastidio no malumore ma non vai oltre c'ho una cosa che mi da se sto male vado a fare ma ammazzo di palestra no ma ammazzo di Tinder pure quello no dipendenze compulsive di senso di Tinder poi non lo so ma angio ma angio assolutamente c'è tutta regolazione somatica no molto spesso in una città che guardate ho visto recentemente stavo tra l'altro a Milano per una lezione mi è capitato di vedere dieci minuti prima di uscire un programma mi pare su Italia 1 stavano facendo sta roba adesso non so se avete letto sentito qualche cosa su questa roba ghiacciante che sono i chemsex no chemsex sono praticamente delle orge devastanti no prevalentemente a orientamento omosesquale maschile ma non solo significa che praticamente ci sono questi festini in cui ti fai di qualsiasi cosa qualsiasi cosa intendo psico-stimolanti ecstasy cocaina farmaci antiretrovirali come prevenzione dell'AIDS perché tutta roba fatta senza precauzioni infatti si scambia una quantità di malattie che Dio solo lo sa no poi parlavo pure con una collega infettivola che mi ha detto che molti per esempio il giorno dopo vanno tranquillamente direttamente a prendere i farmaci del giorno dopo cioè prima si sfondano di tutto no e poi si vanno a prendere medicina a spese dello Stato medicina quella è una fantastica modalità di regolazione della causa di tipo narcisistico ho visto c'era uno di una specie di giornalista almeno sedicente che diceva ma non c'è niente che fa paura a quelli che fanno questo tipo di esperienze l'unica paura che ho è quella di morire di noia ah capito allora ripeto non ce l'hai il linguaggio per esprimere quel dolore per cui metti in atto tutti i meccanismi di gestione sovra elencati il narcisista deve diventare via con quei meccanismi di gestione e ti si ghiaccia il sangue a sentirli no un paziente che ho descritto non in questo libro ma nel manuale di terapia metacognitive interpersonale disturbi di personalità seguito da mia collega lui praticamente è andato in terapia che soffriva di iper esercizio compulsivo cioè si allenava 3-4 volte a settimana in palestra con un workout molto hard molto tosto era uno allenatissimo e la collega che lo seguiva in terapia era preoccupata per la sua salute fisica cioè un livello di allenamento che lo avrebbe portato a farsi male ha provato qualche volta a dire guardi però sono preoccupata per la sua salute perché lei eccetera e lui si incazzava come una bestia perché? perché quel meccanismo di regolazione della raus attraverso l'esercizio fisico era indispensabile sia per regolare la tensione sia per antidoto allo stato intonerabile di vulnerabilità per un paziente narcisista è paranoide per inciso allora si attiva l'attaccamento l'altro non si rifila si incazzano protestano si chiudono diventano autonomi regolano i problemi attraverso meccanismi primitivi che però non includono la manifestazione del dolore all'altro desiderano essere apprezzati l'altro o li svaluta o li pompa se li pompa va tutto bene finché dura se li svaluta o si smontano e si spengono o si incazzano se si incazzano il terapeuta non è felice se si smontano guardate l'esperienza una delle esperienze una delle due tre esperienze più devastanti che può avere un terapeuta durante la sua professione è quella di un narcisista al quale si scoppia l'autostima è un'esperienza terrificante perché una volta che gli si scoppia l'autostima si deprime ma non è la depressione del depresso perché al depresso gli fai l'attivazione comportamentale ti va e batta a fare la passeggiata il narcisista è depresso ma è depresso dal narcisista quindi qualunque roba gli proponete per riantivarlo gli fa serenamente schifo per cui non si impegnano in niente andate a finire in una palude nera che neanche il viaggio di Gingamesh ogni tanto faccio una meditazione un po' no meno velocità mi elevo sopra a valutare allora se io desidero essere autonomo e l'altro mi invalida o soffre che faccio mi smonto mi blocco oppure che faccio tanto per cambiare mi incazzo mi aggredisco per rimuovere l'ostacolo vedete che in qualche modo una modalità di reazione quindi una degli aspetti della risposta del sé alla risposta dell'altro tipica del narcisista è la rabbia ma il punto che la rabbia è un meccanismo estremamente costoso cioè dovete reggere l'attenzione no e i narcisisti a reggere l'attenzione non sono così bravi come i borderline i borderline hanno un sistema temperamentale più vispo cioè si incazzano meglio sono più bravi reggono di più no fa più casino menano tirano i piatti cioè gente che ci sa fare narcisisti non la reggono l'attenzione per cui dopo che si è arrivato all'acme dello scontro narcisista comunque sta fronteggiando un altro che gli offre queste rappresentazioni negative qual è il modo migliore per proteggersi dall'altro frustrante? la chiusura nazionale meccanismo preferito dal narcisista per gestire il dolore lo stress la sofferenza proveniente dalle relazioni interpersonali e la chiusura la specialità del narcisismo narcisista del sisma narcisistico questa i miei vecchi terapia di lagagnani avrebbero dovuto fare un gioco di parole del genere il terremoto del narcisista altrimenti detto il narcisismo è un ausus alla fine perdonate e chiudersi la porta dietro le spalle ok è un meccanismo protettivo fantastico ora dritta di tipo clinico la parte del disturbo narcisistico che curate con meno successo cioè tendenzialmente se sapete fare le cose giuste la dare vera il narcisista può essere da efficace a molto efficace alcuni li aggiustate proprio diventano delle bravi persone per dirla in maniera semplice ma quello che veramente riesce con difficoltà e solo con alcuni pazienti è farli stare all'interno di una relazione affettiva stabile contenti di starci ok c'è lì c'è proprio una sorta di danno primario strutturale ok quindi per le donne in sala che hanno avuto hanno o pianificano di avere un fidanzato compagno marito narcisista con tutte quelle che attualmente hanno affari sentimentali con qualcuno a forma di narcisista lasciate perdere proprio consiglia che che dritta mandato a giocarlo in agio delante lasciate perdere no non li cambiate cioè ma è stato infedele capito però è stato no non è che è stato un caso è proprio funzionano così perché è migliore è freddo sì è freddo e va bene così no poi se si cura si cura benissimo in tanti altri rispetti la chiusura relazionale tendenzialmente la mantengono ok cioè sanno che è un problema ma alla fine un po' non riescono a scardinarla completamente allora dicevamo vi trovate di fronte quindi pazienti arrabbiati combattivi sprezzanti chiusi distanti che fanno delle robe fuori di testa per placare il dolore no drogarsi disturbi alimentari voi immaginate una narcisista donna 25 anni che passa da via monte napoleone e ne esce che ha 42 kg no entri che sei ragazza ha 17 anni e pesi 55 e ne esci che ce n'hai 20 e ne pesi 42 c'è un disturbo alimentare perché? perché se è magro è figo ok ed è un disturbo con l'anoressia di stato narcisistico ok ed è covid ok non è l'anoressia il problema fino a che non ti ammazza ovviamente è la cura dell'immagine negativa di sé quindi vi trovate da terapeuti tutta sta roba vi trovate da terapeuti pazienti che vi trattano in quel modo vi disprezzano vi tengono a distanza non si fidano non vi manifestano la sofferenza non si capisce proprio di che parlano perché ovviamente si sono persi in intellettualizzazioni astrazioni o vi idealizzano perché ovviamente non possono andare da un terapeuta così devono andare da un terapeuta più figo più figa del mondo ok questo è quello che vi si presenta addosso ok tutta roba che dovete gestire è la regolazione della relazione terapeutica ok quindi se da terapeuti sappiamo che quello che dobbiamo fare è aiutare questi pazienti a fondare il senso di sé sulla base di come dire una motivazione non agonistica ma di sensorialità della vita di riattivazione dell'agency di attivazione del sistema esploratorio nella relazione terapeutica vi trovate catapultati sprofondati all'interno di pattern relazionali reciproci altrimenti dettici interpersonali carichi di agonismo di distanza reciproca o di idealizzazione reciproca ok ci state dentro che significa che il paziente vi svaluta vi testa vi sfida vi tiene a distanza vi ignora viene in terapia non si capisce se è coinvolto o meno oppure prova a sedurvi tutta sta roba qui ok come rispondiamo a tutte queste cose perché il modo in cui relazionalmente rispondiamo a questi stili di comunicazione narcisistici ha un impatto decisivo sul fatto che la terapia andrà avanti o meno ok allora non so se è chiaro il quadro perché quelli sono gli schemi e quelli come voi ci cascate dentro come si gestiscono questi problemi del terapeuta di fronte al narcisista poi volete chiamarli ciclo interpersonali volete chiamarli aspetti controtransferali volete chiamarli aspetti di transfert recifroco aspetti di coinvolgimento nella matrice relazionale chiamateli come pare ma quello che resta è che il terapeuta dentro la terapia con il narcisista ci sta con la propria soggettività attivato secondo determinate modalità innescate dallo stile di comportamento narcisistico l'ho detto che si capisce con un capo e una coda se no chiedete correggete fate domande ok cioè il narcisista vi butta da dentro il narcisista vi ci butta il modo in cui ci cascate è il vostro ok non sta scritto nel manuale sta scritto un po' nel manuale un po' sta scritto nella vostra storia di vita che si fa? come gestite sta roba? cosa conviene fare con il narcisista? cosa conviene non fare? cosa va evitato come la resta? assolutamente assolutamente non è donistico non è donistico ma è come dire in contatto con la assolutamente la vita ha una sua sensualità una sua curiosità ha una sua sensualità sì assolutamente però questo come dire è l'obiettivo del terapeuta quello che vi sto chiedendo adesso è come c'entrate voi con tutte le scarpe cioè voi entrate in terapeuta con il narcisista con il paziente che vi dice ho fatto capito ma c'è soltanto questo spazio a disposizione mi sta chiedendo 90 euro per una seduta ho fatto sì ancora era un appuntamento elevato ho preso le quattro e mezza e poi cominciamo capito? un po' esempio un attimo scusi signorina signorina no no a me non mi chiamo signorina però che arriva a Chiara la persona mi chiamava signorina giustamente no senta dottoressa scusi la regione ci possiamo vedere del tu vero? no? però te lo dicono sì però secondo me ci vuole una certa rigidità con loro aspetta un attimo questo per esempio è un ottimo modo per creare un ciclo interpersonale negativo come ti permetti di trattarmi così tu ci stai provando con me ti faccio un culo così però mettere un attimo dei paletti sì sì un attimo però se ti metti il paletto nel modo in cui le ha detto questo qua te ce manza capito? oppure c'è prova a maggior ragione proprio perché gli hai risposto rigidamente cioè diventa proprio una questione di sfida no? ah sì sta rifatto per farci vedere relazioni pericolose chi mi vado a beccare no? madame du Turebeyer cioè quella proprio capito bella bellissima Michelle Pfeiffer però via sposatissima religiosa casta e io là devo andare a rompere le scatole perché? perché mi dà più gusto perché altrimenti è troppo facile no? te la pego da rigido e il paziente dice ma te faccio vedere io no? allora una delle modalità adesso sto cazzeggiando per cui si capisca con cui rispondiamo a questi comportamenti è l'avete sentita nel tono di voce della collega la sfida il ristabilire il rango tu sei al posto 2 ti faccio vedere io si è attivata la competizione si parte da qui si finisce la guerra di roses no? matematico questo è già abbiamo come dire simulato una delle cose da non fare cioè rispondere in maniera agonistica ristabilendo i ruoli vince il narcisista lasciate perdere perché? perché è un meccanismo primitivo primordiale protettivo animalesco cioè se cominciano entrando in rango e voi volete vincere siete fottuti voi per definizione non vi aiutate vi fate male e gli fate del male questa è una cosa peggiore no? quindi questo no cioè non bisogna ristabilire il ruolo ok? cioè la risposta lei non sa chi sono io non funziona poi lo significa quello che dici in realtà è verissimo cioè lo stabilire i confini a rispetto personale assolutamente sì va fatto però va fatto in un certo modo collaboriamo e dobbiamo una mediazione cioè come ti ho chiesto di uscire e mi stai dicendo collaboriamo scusa no è stato orario vengono ah adesso l'ora è stato suppiuso la parte del corteggiamento collaboriamo troviamo una mediazione sì come dire teoricamente sì poi bisogna vedere come riusciamo a farlo eh assolutamente sì esplicito quello che sta avvenendo quindi ci sono interpersonali che mi sono tra di noi e vi spiego come fare insieme per riuscirne per esempio che gli dici? che valido il fatto che l'unione ha fatto tutto che abbia avuto degli effettamenti nei confronti per esempio cosa gli valido? che non so sono grazie perché grazie fa piacere che lei mi schi mi abbia mi apprezzi e sono molto contenta che lei mi stia dicendo queste cose se me le esplicita però questo è uno schema che come in altri contesti si sta attivando di nuovo anche in terapia come il paziente che ti ha detto posso darvi del su magari visto che è giovane io le ho detto del su io voglio dire solo da lei come terapia perché mi piace lei o nessun altro lei su se ti ha detto che sei giovane e carino e tu mi dici che è lo schema io ci rimango un po' male ci rimango e però io ce lo spiego che è e invece rimango male lo stesso no io già capo io narcisista le due cose non si è privato nei incidenti o tre ci fa bene che dal cuore non è inerci male ma in quel contesto lì possiamo accogliere e riscarci male e lavorare e risparare e imparare a stare in questa città normale perfetto sentite una cosa soltanto adesso stiamo facendo un gioco oltretutto le cose che state dicendo sono sensate valide e utili per il ragionamento adesso è chiaro che non ho il tempo di fare tutto quanto un lavoro di supervisione quindi magari ci gioco sopra scherzo scherzo ma spero che passi più totale rispetto in quello che state dicendo non state dicendo sciocchezze sto facendo delle specie di simulazioni ma veramente per il giusto del cazzeggio sugli effetti che avrebbe un certo tipo di intervento sul narcisista no? ok? allora quello che stai portando tu non è che è sbagliato ma gli stai portando un'istanza psicoeducazionale cioè gli stai dicendo tu mi stai portando un problema delle relazioni e io sto dicendo guarda se sei tanto carino ma questo qui non va bene e probabilmente rifletto un funzionamento tuo che tutto sommato non è così sano quindi io ti ho portato un impulso relazionale e tu mi stai dicendo che sono malato e che non ce lo dovrei avere quel comportamento verso di te quindi toc criticato e rifiutato no? narcisista non va bene bene no? che non significa che ti devi fare vedere tu e devi accettare il complimento eh? ok? però il modo in cui lo riportiamo deve essere un pochino più diciamo una cosa il paziente ci dice no la dottoressa non è capo lo sta lì ci sentiamo disprezzata disprezzato disprezzato ok? ci buttiamo giù ci preoccupiamo oppure ci irridiamo ok? no si può si può si può sorridere e riportare tutto ad uno stato quasi di indifferenza di scivolamento eh no va affrontato perché sta succedendo qualcosa c'è un sistema interpersonale che si è attivato se lui mi dice guarda dottoressa sono arrivato a mezz'ora dopo io gli rispondo sorridendo dicendo va bene io infatti mezz'ora che la stavo aspettando non ci sono problemi guardi tra mezz'ora o la prossima seduta la seduta finisce tra mezz'ora quindi cioè è questa la rigidità e il marxidista si sente respinto io dopo un'altra seduta ed è oggettiva la cosa che è realistico e questo è oggettivo il narcisista il linguaggio oggettivo non lo conosce la terapeuta gli sta dicendo ti manda a quel paese hai sbagliato ad arrivare tardi non mi interessi oltre l'ora di lavoro guarda vai da un collega a mezz'ora allora il paziente arriva tardi adesso abbiamo preso un esempio di quelli anche difficili il paziente arriva tardi voi l'ora successiva avete un altro paziente difficile ok e comunque vi sta girando le scatole perché è arrivato con mezz'ora di vita questo aspetto il risultato durerà comunque qui 50, 50, 50, 60 non so quanto ne fate lunghe io dico sempre 50 minuti perché invece avete bisogno di 10 minuti per gestire il debriefing per gestire i casini preferenti per farvi giochi con gli amici con i collega in stanza così vi rilassate orate no? quindi 60 minuti tendenzialmente non potete c'avete tutta quanta la pressione addosso il paziente arriva lì capite? in ritardo se ne fotte magari pure completamente e c'è da dire un sacco di cose no? e voi sapete che non c'avete un'ora a disposizione per il paziente ok? e cominciate a pensare adesso gli devo dire che non può fare 50 minuti di seduta se glielo dico che impatto ha? chi sono io per lui in quel momento? cioè dovete continuamente collocare la vostra azione in risposta al paziente all'interno di quali sono gli schemi interpersonali del paziente ok? non esiste il principio di realtà il principio di realtà lo costruite ma all'inizio non c'è lo dovete fondare ok? per il paziente non c'è la cosa oggettiva il terapeuta c'è un'altra persona dopo di me c'è il terapeuta mi sta rifiutando respingendo ignorando punto quella è l'unica verità esistente nell'astanza ok? che fate a quel punto? non li fate stare un'ora la prima volta li fate stare dieci minuti in più sì ma gli cominciate a dire senta un attimo guarda io purtroppo ho un problema no? purtroppo è arrivato tardi mi rendo conto che non sono successo un sacco di cose e non potrò saltarla oltre quell'ora lì no? senta ma che effetto le fa il fatto che le sto dicendo che comunque abbiamo meno tempo del solito a disposizione ok? cioè la vostra il vostro principio di realtà sta nel fatto che se arriva alle 4 e mezza voi comunque non chiudete oltre le 5 e 5 5 e 10 questo è un principio interno ok? che è la definizione del confine ma nella relazione interpersonale non gli dice che è venuto di casa devi arrivare a puntuale altrimenti va a fangulo gli ide il fatto che io ti sto dicendo che ti devo salutare prima che tu abbia potuto esprimere quello che mi stai dicendo che effetto ti fa? chiaro? perché arrivare in ritardo fa parte del covid disfunzionale sentirsi rifiutato è lo schema nucleare chiaro? allora io gestisco il covid disfunzionale mettendo il paletto sulla seduta ma vado a lavorare assumendo che nella seduta ti si attiverà lo schema con la rappresentazione primaria del desiderio frustrato ok? cioè che tu vuoi essere ascoltato e il terapeuta ti sta dicendo no ok? se noi restiamo sul piano di realtà il paziente è un cretino perché si aspetta che lo stiamo a sentire un'ora dopo essere arrivato in ritardo e averci pure mancato di rispetto sul piano degli schemi interpersonali che è quello che ci interessa il paziente è uno che ha un sacco di cose da dire e noi lo stiamo ignorando capito? dobbiamo muoverci nella modalità come se ho detto senta un attimo quindi nel momento in cui io le dico che comunque oltre che 5-5 5-10 non potrò farla stare lei si sente come oppure vatti lei mi ha detto che vorrebbe che hai capito quella retina della sua compagna facesse questo e quest'altro ma ha visto che sono rimasto un po' perpresso e no cosa ha pensato in quel momento? c'è vatti dottoressa ho pensato che lei sia piuttosto moralista ah caspita quindi mi ha visto giudicante moralista e qua sta proprio il culo da pazzi in quel momento capito? e poi però con tutta quella posizione mentalizzante che quella è no mi ha sentito moralista giudicante e questo come l'ha fatto sentire? mi ha fatto sentire che mi considero un po' stronzo che bene aspetti un attimo questa sensazione di sentirsi come dire giudicato inibito trattato come uno stronzo sostanzialmente no quindi con la mia attitudine un pochino ci si stava sentendo fatto sì ma adesso quanto è forte ancora? di nuovo che ne stiamo parlando un po' di meno l'abbiamo modulata perché? perché non siete rimasti ancorati o rimasti ancorati alla posizione di prima vi siete messi a interrogare il processo relazionale voi stessi siete diventati oggetto delle questioni però se abbiamo mezz'ora tutta la parte che c'è dopo che riconosciamo c'è una la domanda successiva quando ti è capitato mi racconti una volta in cui ti è capitato la parte della seduta successiva è che non c'è non c'è tempo certo però l'avete registrato ma ti sento un attimo un'altra volta lei si è portato questa sensazione di avere bisogno di essere ascoltato e che io l'ho messo in confine e non l'ho ascoltata alla fine è come se l'avessi respinta adesso guardi mi dispiace perché no ci sono comunque delle regole strutturali della seduta che in qualche modo vanno mantenute che sono ritmo puntualità io comunque ho bisogno di tempo per pensare voglio anche capire che le succede che la porta ad arrivare in ritardo se questo si ripete però mi rende volto che le sia arrivata una cosa scheradevole poi ci abbiamo ragionato capito che non volevo essere giudicante però quella sensazione è lì adesso ce l'ha tutto sommato mi stai un po' sulle scatole che mi stai a fare il sermone lo stesso però un pochino lo posso sopportare dove ti porta hai in mente altri momenti della tua vita in cui avevi bisogno di essere ascoltato e l'altro invece di darti attenzione ti giudicava ti criticava eccetera eccetera ok lì passi dallo schema della relazione trasferale nella relazione terapedia alle memorie associate quindi l'impatto del comportamento del paziente sulla relazione terapeutica diventa un episodio narrativo presente che ci serve come elemento per andare a evocare memorie associate che ci potrebbero portare poi piano piano potrebbero portare il paziente a dire che cavolo sta sensibilità mi sa che appartiene alla mia storia di vita forse è un'idea che c'ho nella testa ok però potrebbe anche rispondere scusa ma perché mi sta a fare tutte queste domande io mica c'è c'è una sorta di inversione di ruoli in questo mentalizzare troppo sì sì lui potrebbe spiazzarti in questo modo assolutamente sento che questo che stiamo facendo adesso è inutile è una perdita di tempo guardi no mi dispiace che abbia questa sensazione comunque purtroppo è chiaro che io non posso portare le sedute avanti oltre un certo tempo su questo dovete essere fermi dentro voi non dovete spiegare al paziente il problema non è il paziente che deve rispettare il tempo siete voi che al minuto 60 65 durante le prime sedute se proprio succede vi alzate e lo mettete alla porta molto gentilmente cioè questo è proprio una fermezza interna ok tanto quindi sente che in questo momento quello che sto dicendo è una perdita di tempo d'accordo quindi ci c'è qualcos'altro che le preme dire ok che cos'è di cosa vogliamo parlare quindi cercate di ristabilire un'alleanza rispetto ai compiti rispetto allo scopo o meglio rispetto allo scopo e rispetto al compito ok quello che stiamo facendo è una perdita di tempo lo capisco lo sento anche irritante va benissimo capiamo insieme dove vogliamo portare questi 20 minuti che abbiamo a disposizione cioè ti do il controllo della seduta che dura 20 minuti capito l'enfasi non è mi dispiace più di 20 minuti non ti do puoi fare tutto quello che vuoi in questi 20 minuti cioè anche una questione proprio di rapporto figura a sfondo sentite domanda come vi sentite in questo esatto momento che stiamo disegnando questi scenari conflittuali in seduta che tipo di emozione c'avete che tipo di arousa sfidante sfidante rassicurante eh rassicurante rassicurante cioè ti senti rassicurato cioè no nel senso io in questo momento ti sento rassicurato ah tu ti senti rassicurato ah vabbè perfetto quindi ok cioè nel senso accessibile cioè si può ok quindi ti metti nella posizione del terapeuta che vuole imparare cazzo questo qua che è stato di qualcosa perfetto quindi sei nella posizione del terapeuta che devi imparare sì non sei in seduta con il paziente perfetto ok ottimo però poi ansia preoccupazione curiosità chi è curioso eh allora le bugie non sono ammesse no sto scherzando in che senso curiosità perfetto non ansia cosa scusa non ansia diciamo già buono sì ah già buono ok quindi più o meno nella posizione sua insomma nel senso che bello sto imparando una roba che mi potrebbe essere utile perfetto quindi anche tu sei un po' fuori dalla seduta in un certo senso ma che bello qui in classe si impara poi i terapeuti affronteranno queste cose no ve lo dico perché per esempio mi rendo conto che un po' mi stavo scaldando cioè stavo in seduta con un paziente che mi stava come dire attaccando con questo stile quindi ho cominciato io a rendervi conto che mi sentivo sfidato mi sentivo svalutato mi sentivo sotto pressione e stavo cominciando a cercare di capire come modulare la mia risposta sotto pressione ok adesso non so a quanti di voi è successa una cosa del genere in questo momento cioè quanti un pochino sono entrati in seduta con uno che ti dice senti scusami me stai a far perdere tempo no cioè si vabbè le pizze la psicologia eccetera eccetera ma di che paghiamo no cioè non so quanti di voi sono entrati in seduta con uno che vi sta affrontando ok l'altro giorno ho fatto una prima visita il signore che sarebbe stato portato una prima visita lui aveva anche un disturbo bipolare 2 quindi accelerando la possibilità è entrata in seduta ho fatto si amore perché adesso no si si vabbè amore adesso sarebbe dal dottore no perché devi fare questo e quest'altro si si perché poi devi spostare questo indirizzo perché poi l'appuntamento è alle 5.45 perché fra 50 scusi ma la seduta quanto dura 50 minuti e fra un'ora no vabbè fra 50 minuti così un carro armato no e ci ha detto allora scusi ma che succede no perché comunque sono nervoso perché mia moglie ha detto che mi incazzo tanto ma che succede no perché il problema è sul lavoro perché comunque la gente vabbè io sono molto attento al dress code mentre invece da merito eccetera eccetera poi è successo questo perché sono comparte in questa maniera c'era questa promozione però io devo fastidio al capo e quindi alla fine mi hanno fatto fuori però io comunque c'è un curriculum della madonna poi guarda in maniera rete di contatti su link sostanzialmente non c'era lavoro e vedi sul quadro da se però capito aveva un curriculum infinito e quindi io però quando sto così sto nervoso ho fatto ma in che senso nervoso e no vabbè questo senso di una riguetezza cosa no però adesso sto meglio hai capito perché poi il punto che quando la gente mi dice così mi scoccia perché mi fanno sentire un cretino tipo mio padre ma poi su il suo padre la fa sentire no vabbè ma io mio padre gli rispondo mi fa un esempio no vabbè perché comunque il rapporto con mio fratello qualunque cosa mi diceva gli ripetevo pari pari quello che mi aveva detto no vabbè ma io non ho detto questo figura non era sprezzante ma non me ne passava una cioè mi diceva no perché io comunque un momento di cioè sostanzialmente lei ha questo problema che dice che mi viene in terapia per la rabbia però mi sembra di capire che lei si arrabbia quando si sente ferito questo più o meno ve lo dice lei no fatto no vabbè ma io non è che proprio mi sento ferito perché poi queste cose le è giusto perché io prima rispondevo incazzato no fatto per esempio questa settimana mi è successa questa cosa qua quindi questa settimana mi è successa sì vabbè ma mai non era una cosa importante non ne passava una capito intervento del terapeuta no ah vabbè quindi in questo momento quindi in effetti mi sembrava di aver capito che lei in certi momenti che si sente vulnerabile poi si incazza però in questo momento mi sta dicendo che non è un problema così forte giusto sì sì assolutamente senti un attimo mi scusi quindi se ho capito bene lei mi chiede la terapia perché perché mi incazzo no fate bene se hai detto è il gioco del bocca no che fa il terapeuta come ti senti frustrato sì perché ti senti frustrato perché il paziente ti fa capire che c'è una parte vulnerabile ma non te la vuole svelare perché c'ha l'idea che se ti svela la parte vulnerabile sarà umiliato come lo umiliava il padre no come ti senti di fronte a questo atteggiamento secondo voi come mi sentivo impotente impotente e in parte irritato cioè impotente perché non mi faceva muovere un dito irritato perché ma porca miseria me l'hai detto mo me dici no ma ti stai a pigliare in giro ok come ho gestito questa cosa intendevolmente cioè che cos'è che mi ha permesso di fare una prima seduta che poi ha portato il paziente a seguire i miei consigli di andare ad un'altra collega di studio cioè qual è il passaggio interno che ho dovuto fare per rendere la relazione una relazione buona e che in quella seduta è stata minimamente efficace tanto da permettere di accettare l'invio che significa accoglierlo? devo modulare la mia reazione non la sua cioè io cosa? pensare di più comunque se no è in uno stato problematico non è cioè io ho fatto proprio perché credo il suo problema quindi questo mi fa modulare che sentimento in particolare? potenza? no aspetta un attimo l'impotenza no l'impotenza forse anche sì però più facilmente vi incide sull'irritazione cioè non ce lo fa perché è cattivo ma lo fa perché ha un deficit è vero no? ma che l'impotenza è un prima seduta cioè se non avesse cioè se già avessi capito come risolvere il problema non sarebbe là quindi che cosa riesco a dirvi? a dire io a me stesso io a giaccarlo che comunque questa persona al momento no? si trova in uno stato dove poi cioè i progressi sono da venire quindi quindi io riuscivo a muovere un dito quando mi ammettino e qui sarà in grado di fare il ruolo e quest'ultima è una buona formulazione perché in prima persona io oggi non posso essere in grado di essere efficace ok? cioè riesco ad accedere al mio senso di impotenza e a non contrastarlo ok? riesco a convivere con la sensazione di inefficacia e salutare questa persona sapendo che un po' mi sentirò uno schifo no? perché quello che stavi dicendo prima è tutto sulla comprensione dell'altro che è molto giusto molto intelligente molto razionale è giusto clinicamente ma la mia sensazione di impotenza e di inefficacia non è una sensazione razionale è un mio stato somatico affettivo cognitivo somatico affettivo cognitivo pro corpo emozione mente no? e io quello mi devo regolare allora la domanda è Giancarlo ma tu hai una sensazione di impotenza e di inefficacia come ci campi? risposta mia malino ok? se a secondo quella sensazione che mi dice che devo funzionare non bene devo funzionare super bene devo essere efficace ma tanto e soprattutto non voglio restare paralizzato perché altrimenti la dobbina mia madre che come me muovevo e come me muovo ma cucina mia madre ha 79 anni per carità in questo momento si sta occupando dei miei figli non l'ho mai uccisa in vita mia ne sono prova delle cronache nere che non mi hanno mai visto e leccato tra i matricidi no? perché la madre quando io sto in cucina come metto il caffè sulla caffettiera già mi sta correggendo no? alla tele da 15-40 anni no? ok? per cui quando un paziente non mi fa fare quello che io sento di dover fare mi sembra mia madre che mi sta dicendo di usare l'altra caffettiera o di mettere la fiamma un po' più bassa o di utilizzare quell'altra zuccheriera oppure di usare quell'altro formello oppure di non mettere l'olio in quella cosa oppure che l'aglio l'ha schiacciato in quella madre mi sta domerbosendo io sì ok? ecco quello che sto facendo è quello che in qualche modo ci serve di fare da terapeuti cioè il paziente mi chiama in causa lì ma lì non è in potenza ho fatto la cosa sbagliata no? è pure in potenza perché alla fine come la faccio cioè sì eppure ti ringrazio ti prendo come terapeuta amicare insomma come dire no? e da un lato c'è il senso di sbagliare sempre ma c'è proprio la sensazione proprio di non avere il respiro di poter completare l'azione per come ti viene cioè il punto che non è tanto che è sbagliato è il punto che te la tolgono dalle mani capito? quella è la dell'impotenza quell'altra è la frustrazione che non va mai bene quella è sul rango qui è proprio sull'agency sul sistema autonomo cioè io il caffè lo voglio fare così io il soffritto lo voglio fare così io il vino rosso ce lo voglio mettere punto no? chiaro? no? significa che quella sensazione oramai ce l'ho addosso io è mia ma a parte della mia storia ma a parte del mio corpo me la devo regolare ok? che ore sono scusate? sì ma Giovanni c'è una volta è canzaccato cioè perché sentite in effetti due ore che chiacchieriamo più o meno ci fa ci fa ci fa non vuoi poi le va a chiedere ma non dovete mai occupare aspetta lasciamo stare i narcisisti da che punto di vista aspetta non lo so che l'ho detto io però vuol dire in quale aspetto? no perché io c'è un filone sudanalitico anche dei danni fondamentalmente proprio basilari del narcisismo dove loro poi comunque rilevano come poi la possibilità di amare come può amare qualcuno non ce la vanno male perché uno ha ferita probabilmente in uno stadio di sviluppo comunque precoce e quindi loro dicono no allora riescono a stare sulla collaborazione allora guarda un libro che per me è stato fondamentale è stato la guarigione del Selly Cout nel 77 c'è un libro un po' più come dire lo scritto per tardo diciamo di Cout e ha detto una cosa che ha letto uno dei concetti sostanzialmente è che la terapia del narcisista finisce un po' prima di quando tu clinico vorresti ma non significa che non sia stata efficace ok? cioè che li hai portati a fare quel pezzettino in più di riparazione dei danni che hanno ricevuto e di miglioramento della qualità delle loro relazioni un pezzettino in più di quando sono entrati in terapia poi ti sembra che comunque sono stato un archiepezzo o sono delle persone incomplete ma comunque gli hai fatto del bene e allora a me è stato fondamentale per cominciare a rendermi conto che un signore che ha fatto tre terapie prima di me durante due sedute in una e con me è stato sei mesi e poi se ne è andato comunque gli ho fatto fare un pezzettino in strada in più cioè comunque sono riuscito a beccare delle cose e qualcosa gli ho dato no? quindi in generale la protezione attraverso l'uscita della relazione per il narcotistico è un meccanismo molto potente che in molti casi difficilmente riuscirete a aggiustare ok? cosa intendi per l'uscita della relazione perché non perdono l'intimità? significa che o rompono la relazione oppure restano nella relazione standoci freddi, distanti, annoiati sì, hanno una capacità di sperimentare e sostenere l'intimità limitata ok? però per esempio il paziente mio narcisista ad alto funzionamento brillante, intelligente è stata una terapia anche con vari aspetti come dire, belli per me è finita la terapia un paio d'anni fa lui è entrato in terapia una delle cose che mi diceva le mie relazioni sentimentali durano tre anni e mezzo perché io mi stufo me ne vado o comunque non sono in grado di portarle avanti ok? l'altro giorno mi ha portato mi ha mandato per Whatsapp una fotografia bellissima che lui ha scritto non mi dico il campo comunque un libro che lui ha appena pubblicato con un editore anche importante nel suo campo specifico e su questa copertina del libro c'era la manina del figlio che c'ha 5-6 mesi una foto di una tenerezza ma pazzesca proprio lo potete fare una cosa del genere devo dire che soprattutto sulla genitorialità i narcisisti gli tirate fuori delle cose stupende hanno un'intelligenza una sensibilità un'attenzione una ricchezza di sfumature una capacità di capire il figlio e di saperci giocare rara cioè con il partner sentimentale di meno è complicato perché il partner comunque ti chiede altre cose comunque per il figlio si attiva proprio l'accudimento normale il partner più facilmente è comunque una figura che continuerà a incarnare fantasmi di trascuratezza neglect ostacolo uno degli schemi che fa più danno ai narcisisti nelle relazioni sentimentali è quando il partner è sofferente perché gli attiva il senso di colpa l'accudimento invertito cioè partner sofferente narcisista vede il veneno proprio cioè vede l'ostacolo l'autonomia voglio andare a iscrivermi all'università partendo da via de Grasso arrivando a Milano centrale no non puoi perché vai soffrire mamma allora quando soffri a me mi stai facendo del male e questo è una roba che è difficile che riesci a sistemare completamente poi molti narcisisti che ci hanno avuto in terapia poi si sono sposati hanno avuto figli hanno avuto e hanno dei legami sentimentali stabili solidi cioè succede insomma impossibile molti non astretto riesce a fargli avere una relazione insomma anche perché di solito si innesca anche tutto l'altro campo della seduttività continua cioè il fatto di essere seduttivi in continuazione anche nella relazione cioè quindi la caccia del gatto col topo quando poi prende il topo non va bene perché ce l'ha allora puoi rinnescare un qualcosa che lo fa allontanare allora questo è un meccanismo micidiale sostanzialmente in realtà più che del narcisismo è un meccanismo di tipo strionico cioè l'aspetto strionico del narcisista però quella seduttività compulsiva del narcisista è un pochino pochino più afferrabile cioè nel senso che tu lo dici tanto un attimo ma scusi ma lei sostanzialmente adesso guardate c'è un paziente che in realtà è narcisista per modo di dire nel senso molto tanto funzionamento una brava persona eccetera eccetera praticamente viene in terapia perché ha avuto una relazione parallela di circa 5 anni la moglie l'ha scoperto e ovviamente è successo il putiferio e lui durante le prime sedute mi dice no perché poi comunque io sono un bel ragazzo assolutamente io sono un bel ragazzo io lavoravo da solo in mezzo a 40 femmine cioè è una cosa di un gratificante pazzesco ma te lo dici tutto quanto contento soddisfatto poi avevo questa donna qui che era un amante perfetta nel senso che era carina bella dolce disponibile e stava al posto suo la perfezione dal punto di vista maschile proprio cioè una donna che ne vuole che non rompe le scatole è chiaro che poi è una specie che non è stata ancora inventata e questo dice che l'evoluzione ovviamente genera creature imperfette quindi comunque è una rappresentazione di tipo narcisistico no? e morale praticamente la relazione è finita e via dicendo il punto che adesso la moglie sta facendo all'inferno non si fida di lui c'ha dei meccanismi paranoici e le si è reattivata una roba che in realtà non era mai passata che era una doressia una bulimia che era arrivata a una casa cioè la moglie attualmente pesa tipo 40 kg diciamo due figli no? insomma praticamente siamo andati a lavorare sugli schemi interpersonali le origini la madre critica sprezzante invalidante la moglie che lo colpevolizzava eccetera eccetera morale ha detto guardi io adesso ho cominciato a capire l'ultima seduta io ho cominciato a capire a che è servita l'amante cioè io non avevo la possibilità di staccarmi dal rapporto con mia moglie perché non mi sentivo in diritto di fare le mie cose non mi sentivo capace di superare il senso di colpa se faccio qualcosa per me invece di farlo per me altro mi sono trovato questa situazione che era gratificante ma non avevo alcuna intenzione di lasciare mia moglie no? adesso di sedurre conquistare eccetera eccetera non gli importa assolutamente niente si dice a voce alta mia moglie l'altra sera siamo stati a cena a un certo punto l'ho vista che è sparita è stata in bagno a lungo no? i figli non se ne sono accolti poi sono andati a letto quando siamo andati a letto con il campo gli ho fatto sentire ma io mi domani cioè a cena ho visto che è stata fuori è stata in bagno una mezz'oretta non è che si è andata a vomitare sì intanto come si sente rispetto a sua moglie che ha fatto sta cosa preoccupato ok? qui siamo fuori del narcisismo prima è mia moglie mi dà delle sensazioni strane che poi mi attivano degli schemi che sono quelli di mamma papà eccetera eccetera e quindi a quel punto che faccio bisogno di rinforzo per regolare il malessere io sto dicendo l'ammirazione dell'amante mi serve adesso di fronte al comportamento di memoria sono preoccupato per lei e per l'impatto che puoi avere sui figli no? è l'idea di avere bisogno di sedurle per stare bene ma proprio zero cioè puoi investire sulle mie capacità lavorative però ti ripeto questo è un paziente proprio lieve lieve cioè ha un funzionamento narcisistico ma per finta insomma però diciamo illustra quello che vuoi fare l'altro paziente che è venuto in terapia come devo dire tanti ho veduto dopo aver letto il libro ha detto mi scusi ma c'è speranza per i narcisisti in fatto ha detto facciamoci una visita e vediamo che succede no? e mi dice sostanzialmente mi si presenta come guarda io sostanzialmente tutto quello che lei ha scritto nel libro io l'ho fatto cioè io sono uno stronzo devo dominare le persone le devo schiacciare le manipolo le cancello no? mi viene bene perché io mi devo sentire Dio e devo sentire che ti ho pienamente nel mio controllo il punto che con mia moglie scazziamo tutte le sere e ho paura di danneggiare mio figlio e questo mi fa sentire una schifezza e il senso di conto è l'emozione che mi porto di più durante la vita ok? mi si è presentato così ok? e gli ho detto guardi al quadro negativo che lei mi dà io non ci credo cioè capisco che si descriva così magari capisco che visto dall'esterno possa pure essere così eccola mi faccia capire che succede no? l'ho visto per adesso 6-7 volte in 6-7 volte praticamente è uscito fuori che il problema per dire scena tipica il figlio stanno a tavola il figlio sta giocando con il videogioco con il telefonino lui comincia a pensare che se il figlio non va a letto all'ora giusta non dormirà abbastanza e quindi a quel punto non sarà nervoso teso non avrà i processi maturativi giusti e comincia a preoccuparsi strilla al figlio la moglie interviene e gli dice vabbè amore ma non mettergli tutta quanta sta fretta si chiama capito no? a quel punto come si sente caro signore eccetera eccetera lo faccio focalizzare sostanzialmente in quel momento si sente svalutato che lui non conta niente e si sente impotente di schermo di tutto benissimo caro signore questa sensazione che quando lei fa una cosa che sente giù a quel punto lui comincia a levigare con la moglie a sangue che gliene dice di tutte cioè lui è partito ha fatto io a mia moglie che mi ha fatto battire le pene dell'inferno minando la sua stima facendo la sentire con la deficiente lui questo mi ha detto e io dico guarda non mi interessa quello che hai fatto a tua moglie e voglio capire che è successo in questo episodio ok allora mi scusi in quel momento come si è sentito quindi impotente mi sono sentito un idiota mi sono sentito che non poteva aiutare mio figlio eccetera eccetera benissimo senta caro su mio ex ci sono stati altri momenti della tua storia in cui lei voleva agire secondo quello che le diceva la testa e una persona che aveva in funesta su di lei la paralizzava la bloccava oppure la faceva sentire un idiota infatti no ma lei conosce mia madre infatti no però per esempio no ok e a quel punto direttamente vado le memorie associate per fortuna c'era questa capacità e mi porta a vari episodi cioè vado a casa mia il maschio di casa era mia madre perché mio padre era un amicone uno capito che metteva sempre la sua battuta la cazzata un amicone che stai combina io magari prendevo una nuova scuola andavo a casa e mio padre mi diceva vabbè fate il coglione ma in maniera proprio come dire cameratesca lega no la madre faceva le tragedie quindi lui c'ha un'idea che la madre sia quella che comanda che il padre per quanto carino simpatico lui gli vuole bene non ci avesse le palle e che lui non aveva gli strumenti per disubidire ma quindi si sentiva completamente schiacciato diceva a quel punto che è successo quando sono cresciuto più o meno dei 17 anni in poi ho fatto di tutto per non risottomettermi a mia madre perché quella sensazione per me era devastante quindi che succede comincia a capire che lui sta quotidianamente continuando a lottare contro la madre interiorizzata gli sto dando una serie di esercizi di autosservazione di autoregolazione eccetera eccetera morale ma altro giorno mi ha ricordato un episodio di lui che stava in macchina con la moglie la moglie gli ha detto una cosa a lui gli è salito il veneno come c'è da dire ecco però in questo momento mi sono visto proprio l'immagine di Di Maggio mi diceva questo è San Morale e non l'hanno litigato ok e io non gli ho detto devi essere più rispettoso nei confronti di tua moglie gli ho detto guarda quando tua moglie ti dice così tu ti senti sta roba qua ti si attiva sto schema ti si attiva sta memoria e combatti per non soccombere siamo proprio sicuri che l'altro debba avere tutto quel potere su di lei lei non ha la capacità di staccarsi da quella ok ok ho passato cinque sei sedute e già comincia a dire in effetti qualcosa sta succedendo è che è un narcisista vero ti descrive proprio tutti i comportamenti appunto sprezzati idealizzati cioè io ho fatto in maniera per tutta la mia vita di conquistare le donne sembrando un dio è vero capace di convincerle però quando te lo dici tranquillamente no e quindi se gli credi dice ammazza che testa di cavolo quello che è vero è che lui vive la vita con l'opera della madre addosso e adesso quando l'ha capito già si sta cominciando a liberare non so che stavo rispondendo senti allora da ragazzo ma nemmeno tantissimo più che altro che doveva rimorchiare tanto poi insomma abbastanza da giovane ha conquistato questa qui che è quanto pare una donna bellissima stupenda eccezionale abruzzese no quindi vuol dire starda semplice di sostanza no poi di fatto ha avuto una vita affettiva stabile più che altro si scassano continuamente cioè litigano 65 volte al giorno non so ma in questo litigio ovviamente la sua preoccupazione sincera forte è quella di danneggiare il figlio per dire l'altra sera dice sono andata a letto e il mio figlio ha cominciato a prendermi in giro fatto perché io sono così perché il figlio che faceva quello che faceva il verso perché io comunque sai io quando dico delle cose che sono molto sagge no perché io sono figo non sbaglio mai no dice ma lei come reggito io ti avrei venato e poi mi sono detto vedi sto figlio dell'ignota ma fregato perché mi sta pigliando per il culo e io non mi incazzo beh ovviamente abbiamo letto insieme che quel comportamento del figlio era sanissimo e vuol dire che lui forse tutti questi danni non gliela fatti perché se il figlio è capace di prenderlo in giro vuol dire che è libero da l'influenza negativa paterna mi sta scoprendo ma poi si va andare a vedere altre cose sentite ultime due domande e poi c'è per una parte nell'intervento anche un po' atto cioè di diffusione dai propri pensieri nel momento in cui si esplicita il ciclo al paziente io si invito un po' anche a staccarsi dalla fusione proprio con i propri pensieri no? allora 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 il punto che qualunque modello di terapia qualunque ha fra gli obiettivi del trattamento quello di far passare il paziente da una posizione del tipo le cose sono andate così ed è vero a le cose sono andate così ed è quello che io tendo a pensare qualunque terapia ha questo obiettivo cioè non è per niente tipico dell'ACT l'ACT la chiama diffusione ma qualunque modello fa questo scopo anche noi in qualche modo cioè passare all'idea questa è la mia visione cioè una visione costruttivistica in un certo senso dell'esistenza cioè sotto a causa della mia visione del mondo ultimissima domanda io sì poi mi paghi la supervisione però io ci sono delle volte che quando vedo nelle prime sedute alcuni ossessivi sì e dopo scopro di essere ossessivi mi sembrano appunto alcuni narcisistici sì voglio sapere se c'è un modo un po' più incisivo per differenziare queste persone che sono questa appunto che ti raccontano che loro fanno tutto bene però in base più ad un criterio interno no allora oh è arrivato Giovanni che deve fare una domanda cattiva t'hanno chiamato proprio ci sono le spi quindi la tua è la prima ultima domanda perché l'ultima domanda sarà quella di Giovanni allora senti intanto nosograficamente una cosa che ho imparato e che non so ti sento anche di suggerirti frega avere dei confini diagnostici ok perché la classificazione di disturbi di personalità non definisce bene sono prototipi sono macro categorie no c'è tutta un'area di funzionamento che più o meno vede in differenti gradi narcisista evitante ossessivo compulsivo e paranoide ok cioè la stessa persona più o meno può avere sfaccettature di questi disturbi anche un po' dipendente tra l'altro in alcuni casi prevale la vergogna e l'aspetto evitante in alcuni casi prevale il risentimento e la sospettosità e la vendicatività prevale l'aspetto paranoide in alcuni casi prevalgono le fluttazioni dell'autostima e quindi prevale l'aspetto narcisistico in alcuni casi prevale la sensazione di dover avere tutto sotto controllo perché è giusto perché ci sono dei valori parali che vanno rispettati e che gli altri non fanno le cose per bene al contrario di loro prevale l'aspetto ossessivo compulsivo quando in qualche modo il valore non è sulla performance ma è sulla moralità siamo un po' più su di OCP che è quello che stai dicendo tu però poi alla fine il trattamento è simile da te che nel manuale che è già la procedura sinceramente è la testa Giovanni allora in tutto 5142 visualizzazioni è buono eccezionale su un canale diretta SIC Lombardia grazie a Giancarlo grazie a voi domanda semplice solo il fatto ho notato che la crescente consapevolezza della complessità di questi pazienti potrebbe però diventare in parte un rischio il successo della terapia cognitiva fu nell'aver capito che non tutti i pazienti erano difficili sappiamo che altre terapie negli anni 50 avevano portato ad eccesso certe pratiche terapeutiche oggi mi sembra che i miei allievi arrivino troppo consapevoli delle difficoltà del paziente e poi finiscono per fare proprio l'errore che dicevi tu perché chiaramente poi alla fine sono consapevoli del paziente difficile ma sono meno consapevoli delle tecniche di trattamento e quindi non dico che mi dicono ma il paziente va fudito ma alla fine mi sembra la loro declinazione della relazione terapeutica sono di più un accudimento che da questo aspetto tecnico che dici tu quindi vedo questo rischio allora devo dire che io ho un po' meno questa preoccupazione nel senso che non è che se il paziente è difficile il mio automatismo di clinica e di ragionare che va accudito no è che se il paziente è difficile necessita di un trattamento con degli accorgimenti relazionali e tecnici estremamente specifici tradotto in un altro linguaggio tradotto in un altro modo c'è un paziente che mi presenta restiamo nel narcisismo un disturbo sintomatico può avere un disturbo ossessivo compulsivo ipocondria disturbo d'ansia disturbo del rumore no facciamo che c'è un disturbo doc o un doc o un ipocondria oppure un disturbo da dipendenza comportamentale dipendenza da droghe alcol sensualità compulsiva a uno di questi problemi ok che faccio inizio manualisticamente ricordate ricordo a Manamarchi ho un po' di copia del libro terapia metacognitiva interpersonale per i disturbi di personalità inizio da manuale a trattare il sintomo e lo faccio secondo il repertorio di tecniche efficaci possibilmente di stampo CBT prima onda seconda onda terza onda più o meno uno utilizza quello di efficacia che c'è nel proprio repertorio e che sa padroneggiare ok quindi posso fare disposizione e protezione nella risposta detach mindfulness mindfulness ristrutturazione cognitiva dipende ok desensibilizzazione dipende da quello che è il disturbo inizio ad applicare la tecnica per smontare il sintomo di presentazione ma consapevole del paziente difficile quindi in realtà quello mi ritorna come vantaggio so che succederanno delle cose che impediranno al paziente di fare gli homework o di accettare il contratto che renderebbe la tecnica efficace quindi parto dal trattamento sintomatico e il trattamento sintomatico mi si blocca vado a lavorare sui fattori relazionali oppure parto dal trattamento sintomatico il trattamento sintomatico funziona e il paziente mi comincia a dire gli antecedenti relazionali delle ricadute sintomatiche ovvero gli aspetti degli schemi interpersonali quindi mi funziona il trattamento sintomatico e il paziente mi dice si cavolo però ho problemi dell'intimità ovvero ho notato che mi sale il doc quando sento che la mia ragazza è distante a cavolo senta un attimo ma come sta storia che la ragazza è distante quindi a quel punto l'efficacia del trattamento sintomatico tecnicamente orientato mi apre il lavoro sulle strutture interpersonali ok però in questi casi in realtà la consapevolezza che il paziente è difficile significa che dovrò sapere adottare un repertorio di tecniche in prima linea ma anche essere attrezzato a sapere muovere sugli aspetti relazionali e personali quando queste tecniche non funzioneranno io in generale le informiamo in questa maniera noi informiamo alla tecnica o alla relazione poi l'altra cosa pensare una relazione in terapeutica in chiave di il paziente va accudito perché quello che ti preoccupa è semplicemente un errore tecnico l'assetto relazionale del terapeuta deve essere coerente alla formulazione del caso se io so che il paziente ha l'idea che desidero essere accudito se mostro una parte vulnerabile l'altro mi deride nel momento in cui il paziente mostra la vulnerabilità al terapeuta il terapeuta che lo accudisce che sta facendo lo sta umiliando quindi l'atteggiamento accudente è anti schema è anti scopo e sostanzialmente riproduce lo schema patogeno ok se io però so formulare sia perché conosco la patologia in questione la città paranoide di tante dipendenti sia perché attraverso l'analisi delle narrazioni so ricostruire gli schemi interpersonali posso prevedere qual è la mia posizione all'interno della relazione terapeutica che migliorerà il settore nazionale o lo deteriorerà rinforzando gli schemi interpersonali patogeni quindi in questo senso sapere che il paziente è difficile mi aiuta a dire devo fare una formulazione di caso particolarmente accurata in maniera da tarare la mia azione terapeutica per non andare a rinforzare gli schemi patogeni ok quindi il punto che se io invece c'è ragione ma se è più difficile che è un macro costrutto a quel punto sì vabbè sarò un po' più preoccupato ma non è un'azione tecnicamente orientata cioè il paziente difficile significa azione più tecnicamente che c'è un'azione che è un'azione ma s'è più difficile Grazie.